Allora, bentornati a tutti quanti su Parbello, mi volevo cominciare con un ringraziamento perché mi hanno mandato un gentilo omaggio, quaderni ucraini, diario di un'invasione e insieme a questo c'è una cosa che io ci tenevo, ovvero il francobollo semiintrovabile in Ucraina del militare, quello che mandò a quel paese i russi quando le chiesero la resa sull'isola dei serpenti e quindi ce l'ho qui, fra l'altro me ne hanno dati anche degli altri più piccoli e quindi questo è un regalo gradito, insomma una cosa molto simpatica che mi hanno mandato e che tengo nel cuore, poi lo metterò in una tecca di vetro perché sono diventati introvabili, tutti lo vogliono, è comunque un momento storico, per delle storie c'è avere un qualcosa che esce apposta in quel periodo, poi lo vorranno tutti e sarà introvabile. Quindi direi che si può cominciare direttamente dal nostro Giovanni Cicini, il mio è più grande però. Settimana ricca perché oggi ci sei te, poi domenica verrà un altro ospite gradito e parleremo di cose della Nato, di avviazione eccetera, lunedì io farò l'aggiornamento sull'Ucraina e martedì viene Barbero, quindi ti immagini la settimana, poi il domenica alle 13 ci sono da Ivan Grieco, quindi il piatto ricco mi ci ficco, cominci lei? Va bene, allora io intanto saluto tutti quanti, ringrazio Mirko per questo nuovo invito, siamo arrivati alla quarta puntata di questa lunga carrellata dei Gerarchi, i Gerarchi buonasera, ecco bene, vedo già i primi graditi commenti. Abbiamo fatto questa lunga carrellata di Gerarchi, io mi sono occupato di scrivere la biografia di 30, variegati, l'abbiamo già ampiamente esaminati sotto l'aspetto delle macro categorie, quindi c'erano i diplomatici, i calcolatori, i puristi eccetera, oggi siamo arrivati agli ultimi sette che fanno parte della categoria gli imperialisti e i militanti, sono per certi aspetti tra i meno noti al grande pubblico rispetto ai più famosi, ovviamente i quadrumvili, ma anche quelli che hanno ricoperto incarichi ministeriali tra i più blasonati e anche per ruoli importanti che hanno determinato la storia del fascismo, pensiamo a grandi, pensiamo a starace che appunto vengono conosciuti come attorto a ragione nel bene e nel male tra i più rappresentativi. Quelli di oggi invece sono una schiera di personaggi sicuramente meno noti, parte muti, che ha una sua fisionomia anche di carriera, no? Sì esatto, una sua fisionomia che lo ha portato, e vi voglio dire molto spesso si parla di muti, ma avremo modo di accennarlo, molto più per la sua morte che per la sua vita, questo accade spesso ad alcuni personaggi che hanno una vita sicuramente interessante, affascinante anche per molti aspetti, però vengono un po' sopraffatti nella memoria pubblica dalla loro morte, un caso analogo ci è capitato parlando di Giovanni Gentile, Giovanni Gentile che ha sicuramente un ruolo fondamentale per la comprensione, per lo sviluppo soprattutto dottrinario del fascismo, ma ad oggi se si parla di Gentile si parla al 90% della sua morte e al 10% di quello che ha scritto o ha fatto, e questo è un peccato perché si concentra, secondo me, l'attenzione di un personaggio su un elemento che sicuramente è importante capire perché è morto, come è morto, poi oltre al fatto che molto spesso poi si parla di queste morti senza avere una reale comprensione, perché secondo me, e poi ne avremo modo di parlare, su Muti è poco importante secondo me capire la dinamica precisa della sua morte, l'importante è capire che è morto in quelle circostanze, in quel momento specifico. Comunque, tornando alla descrizione dei vari gerarchi, partirei da Attilio Teruzzi, che io ho inserito appunto nella categoria degli imperialisti, negli imperialisti ho inserito Teruzzi, Lessona e Galbiati. Iniziamo da Teruzzi. Teruzzi è classe 1882, quindi capiamo bene che è arrivato alla marcia su Roma nel 22, che ha 40 anni, quindi diciamo che non può essere definito un giovane per l'epoca, ma allo stesso tempo ci permette di capire come la dinamica dei ruoli all'interno del fascismo ha una sua varietà molto ampia. Nelle biografie precedenti abbiamo avuto modo di soffermarci sul fatto che la componente delle gerarchie, dei gradi politici medio-alti del regime provenisse dal giornalismo, dal sindacalismo, dalle file militari, quindi da tante estrazioni anche sociali, geografiche, che in qualche modo hanno caratterizzato la varietà di personaggi all'interno del regime, ma anche allo stesso tempo dei grandi conflitti che vi furono. E questo l'abbiamo detto, ma oggi lo ripeteremo come l'elemento della conflittualità interna sia stato un elemento fondamentale delle varie carriere, ma allo stesso tempo un elemento indirizzato dallo stesso Mussolini, proprio perché Mussolini, che era l'unico, si riteneva l'unico pacere, l'unico che potesse in qualche modo mantenere in equilibrio tutto questo baraccone. Allora dicevo, Teruzzi, io ho fatto un paragone un po' ardito, nel senso lo ho accoppiato, lo ho comparato con Giovanni Messe, Giovanni Messe che conosciamo tutti come maresciallo d'Italia, comandante dell'Oxir, esponente di punta di quel militarismo nato dal basso, che ha fatto la gavetta, che in qualche modo ha costellato la propria carriera sul campo, senza intriga. Da maresciallo napoleonico, no? Eh, esatto, esatto. Il bastone da maresciallo non lo sapeva. Esatto, 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 proprio così. Colui che ha ricoperto tutti i gradi possibili, immaginabili, da soldato semplice fino a maresciallo d'Italia. Ebbene, Teruzzi ha una carriera militare, diciamo simile, almeno fino alla marcia su Roma. Mi spiego. Teruzzi non... era milanese, non ebbe grossi successi nello studio, tant'è che iniziò la propria carriera militare dalla gavetta, dai ruoli più bassi della truppa, e però attraverso un impegno costante, similarmente a quello che aveva fatto Messe, e tra l'altro alternando come messe ruoli di caserma in patria a impegni oltre mare. E questo sarà un po' la costante di Teruzzi, perché la colonia, le esperienze oltre mare, saranno non solo caratterizzanti per il suo percorso militare prima e politico dopo, ma in qualche modo lo hanno anche reso un personaggio particolarmente adattabile a quelle realtà così complesse che si andavano a declinare sia sotto l'aspetto prettamente operativo, le colonie hanno un coefficiente bellico notevole, il fatto che vi sia la distanza dalla madrepatria, che vi possono essere delle forme di ribellismo interno, il fatto di presidiare i confini con altri imperi, quindi diciamo che quello è l'elemento importante, la componente militare, ma allo stesso tempo anche la componente prettamente politica, perché Teruzzi venne utilizzato e in questo si rese particolarmente adatto per Mussolini, come Zeppa, ecco mi spiego, dicevamo prima della frequente necessità da parte di Mussolini di non solo fare avvicendamenti, cambi della guardia nelle componenti essenzialmente governative, diciamo i ruoli di ministro, sottosegretario, governatore di colonia, quindi vi era una necessità costante di rimischiare, segretario del partito, immischiare frequentemente le carte, proprio per evitare che si potessero creare dei feudi, dei feudi che in qualche modo potessero contrapporsi al potere assoluto. Raccontiamolo, Giovanni, lui rispetto a tanti altri comunque ha avuto una carriera militare di un certo livello, ha fatto la scuola ufficiale, ha partecipato alla guerra italo-turca, medaglia di bronzo, ma infatti quello che dicevo, poi ha combattuto la battaglia del Fezzan, medaglia d'argento, non è solo chiacchiere distintivo. No, 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 assolutamente, e questo è quello che appunto, ecco perché lo comparavo a messe, non solo per un tipo di carriera dal basso, ma anche per una sua particolare attitudine, anche di coraggio possiamo dire, all'interno di realtà molto diverse. e infatti egli arriva alla fine della Prima Guerra Mondiale, con mi pare che fosse maggiore ottenente colonnello, alla fine della guerra, cioè un grado modesto, se pensiamo a delle carriere molto più brillanti, ma allo stesso tempo importante, se pensiamo appunto al fatto che egli era partito dalla truppa. e allo stesso tempo egli fu tra coloro che, finita la Prima Guerra Mondiale, videro sostanzialmente una grossa delusione dall'esperienza bellica, perché? Perché la guerra che aveva, si era contraddistinta, molto bella questa foto, si era contraddistinta da un desiderio di riscatto, di affermazione dell'Italia, sia nei confronti dell'Austro-Ungheria, del nemico storico, per il completamento geografico dell'unità nazionale, ma allo stesso tempo quella di cercare una soddisfazione nel Mediterraneo, quindi cercare in qualche modo di mettere a profitto le colonie che all'epoca esistevano, ossia l'Eritrea, la Somalia e quello che era stato per il momento ottenuto nella Libia. Ebbene, l'insoddisfazione di esponenti come Galbiati e scusate, di come Terruzzi, portarono sicuramente al desiderio di cercare qualcosa di nuovo e quel qualcosa di nuovo era sicuramente fuori dall'esercito e più vicino al movimento fascista. Ecco quindi da parte di Terruzzi quello di trovare una situazione sostanzialmente di prevenzionamento, lasciò sostanzialmente il servizio attivo e quello di iniziare invece un percorso più politico all'interno delle formazioni delle camicie nere. E questa esperienza lo portò sostanzialmente in maniera molto preponderante a divenire un personaggio chiave per la costituzione anche militare delle camicie nere. questa sua esperienza che appunto lo avrebbe portato con grosse gratifiche anche nella organizzazione dell'amministrazione dell'amministrazione stessa delle camicie nere prima della marce su Roma però iniziò a incrinarsi con il sovraggiungere di Emilio De Bono. Emilio De Bono che come sappiamo non fu un fascista della prima ora anche egli proveniva ovviamente dall'esercito egli però era generale già all'epoca quindi aveva sicuramente una formazione e una collocazione istituzionale nettamente diversa da quella di Terruzzi ma proprio per questa sua spendibilità è veramente amico di Mussolini il concetto di amicizia secondo me non appartiene a Mussolini nel senso che Mussolini in sostanza non aveva amici io risponderei con le frasi di Dino Grandi che gli si è costruito un podio a forma di fascio littorio sì nel senso che Mussolini non aveva amici aveva come confidente il fratello Arnaldo che tra l'altro appunto sarebbe morto prematuramente ma tutti gli altri erano erano dei collaboratori anche occasionali nel senso che egli poi aveva necessità sempre di liberarsene quando diventavano troppo ingombranti quindi il concetto di amicizia secondo me non appartiene alla figura storica di Mussolini anche per il gioco delle tre carte cioè è difficile sì perché sì perché egli aveva solo dei collaboratori più o meno fidati più o meno utili alle sue estemporanee perché poi la situazione che egli costruì fu quella di durare durare il suo il suo governo costruitosi giorno dopo giorno e quindi il regime non aveva una un programma ben definito non vi erano se noi leggiamo anche le i documenti che in qualche modo hanno il movimento il partito e poi il regime si sono un po' dati non hanno una loro logicità troviamo tutto il contrario di tutto pensiamo all'elemento della campagna razziale Mussolini a proposito della campagna razziale e in lo specifico degli ebrei ha detto in vent'anni anzi in venticinque anni tutto il contrario di tutto e allo stesso tempo l'atteggiamento verso la Germania o l'atteggiamento verso le altre potenze potenze europee o addirittura nei confronti degli Stati Uniti quindi capiamo bene come l'elemento di costanza di affezione da parte di Mussolini era un elemento era un politico un giocatore da zarbe quindi in qualsiasi circostanza poteva scaricare anzi doveva scaricare per il suo per il suo stesso concetto qualsiasi personaggio quindi anche il più fidato quello che poteva tecnicamente essere più vicino al concetto di amicizia detto questo tornando a Teruzzi quindi capiamo bene come Teruzzi si capisce proprio attraverso il suo rapporto con De Bono quindi De Bono che primeggia e primeggerà molto spesso sulle ambizioni e sui desideri di elevarsi socialmente e politicamente di Teruzzi si andranno infatti a scontrare quindi sostanzialmente Teruzzi riuscì ad essere costantemente il brillante secondo di qualcuno e molto spesso proprio di De Bono tant'è che qualcuno qui con sagaccia ci dice però aveva amiche e quello è un altro discorso quello è un altro discorso ovviamente ne aveva anche tante ma anche queste le scaricava diciamo con una certa facilità quindi diciamo che anche queste più che amiche le definirei permettimi l'anacronismo compagne ecco compagne e gli le sbrigava con marzialità senza neanche togliersi gli scarponi esatto quindi c'è questo elemento diciamo che l'elemento femminile era sicuramente sempre presente e diciamo che aveva una sua componente sempre anche questa di estemporaneità detto questo quindi Teruzzi diventa piano piano un po' l'elemento il jolly ecco definibile il jolly in ogni circostanza quindi quando Mussolini aveva problemi o internamente nella componente del governo o in colonia utilizzava teruzzi quindi Teruzzi lo troviamo spesso e volentieri come sottosegretario di qualcun altro spesso di Federsoni o della dello stesso dello stesso De Bono in altre situazioni perché perché appunto faceva comodo utilizzare Teruzzi come elemento di di ostruzione verso notevoli ambizioni e questo appunto lo troviamo ripeto come sottosegretario di Federsoni al ministero degli interni poi alle colonie e poi appunto come governatore in colonia sempre con la funzione di potere in qualche modo sia avere una sua attitudine tecnica perché poi era comunque una persona di grande capacità in senso aveva non aveva tante competenze ma quelle competenze specifiche poteva poteva esprimere ed entra soprattutto di prepotenza all'interno della lotta costante tra reggio esercito e milizia volontaria per la sicurezza nazionale a questo punto devo fare una una piccola pubblicità oltre alla pubblicità generale che stiamo facendo al mio studio il fatto che il primo febbraio 23 quindi è poco da poco diciamo è passato il centenario della costituzione della milizia primo febbraio 1923 e questo e tra l'altro domani mattina sul mio canale ci sarà un video apposito proprio sulla nel ricordare in che modo è stata istituita la milizia e quali sono un po' le tappe di questo percorso ebbene qui c'è questo articolo che è apparso su un quotidiano nazionale che diciamo è un po' di parte ecco un po' l'ho letto e diciamo un po' per nostalgico comunque a parte a parte gli scherzi dicevamo tra l'altro qui si notano dietro a Mussolini ci sta Bottai De Bono esatto ci sta questo è quello dietro questo accanto è Bai Strocchi credo questo mi pare di sì vabbè comunque dice l'impero che avete creato lo perderete vabbè queste cose purtroppo 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 vabbè lasciamo perdere l'occhio lungo di Bai Strocchi no purtroppo per quelli che poi ci hanno fatto una brutta fine perché diciamo che il come se uno pensa che l'impero proclamato nel 1936 poi finirà nel 41 non è durato cinque anni circa quindi diciamo che tutto tutto quello che diciamo ci è stato investito il famoso discorso che abbiamo portato le strade beh diciamo che questo questa cosa assolutamente inutile e diciamo che magari era meglio rimanere a casa con a partire scherzi dicevamo di Teruzzi questa sua questo suo gioco di sponda nella frequente lotta tra milizia e reggio esercito perché e questo è un elemento importante che poi troveremo anche nelle biografie di di Galbiati per esempio Teruzzi tra gli anni venti e gli anni trenta ricoprì il ruolo di capo di stato maggiore della milizia che non era un ruolo importantissimo sotto l'aspetto politico se pensiamo che la milizia che era nel frattempo divenuta quarta forza armata non aveva un proprio ministero rispetto alle altre tre forze armate però aveva il vantaggio sia di avere una essi rispondevano direttamente al duce esatto perché Mussolini era il il comandante generale della milizia oltre al fatto che la milizia aveva un posto fisso nel Gran Consiglio del Fascismo quindi vi era una diciamo una ambiguità nel senso la milizia non poteva vantare un ministero e quindi non aveva un proprio bilancio ministeriale però aveva sicuramente un canale preferenziale non fosse altro perché aveva Mussolini come come referente politico diciamo che tutte le forze armate avevano Mussolini come referente politico però questo si aggiungeva più di altri e anche perché appunto un esponente della il più alto ruolo tecnico della milizia partecipava alla riunione del Gran Interessante perché questa cosa delle milizie cioè della parte militare ideologizzata che l'abbiamo visto anche nel Terzo Reich succede ancora oggi c'è Lazov Wagner che hanno dei referenti politici e Prigozzi a chi risponde Prigozzi a Putin c'è sempre un contrasto tra il lato militare ideologizzato e l'esercito regolare quindi sono cose che si ripropongono nella storia come no come no e questo esatto ma questo hai fatto bene a dirlo perché è un elemento sempre presente ma possiamo dire dalla notte dei tempi ed è un elemento fondamentale nella comprensione del difficile rapporto che c'è in genere tra volontari che hanno magari una preparazione tecnica inferiore ai professionisti al cosiddetto esercito di caserma per capirci che ha una sua marzialità che ha una sua disciplina che quindi ha anche delle competenze tecniche diciamo rodate nel tempo e dall'altra parte appunto i volontari volontari che hanno una preparazione un po' più superficiale che hanno meno disciplina ma che hanno in teoria uno spirito di sacrificio di adattamento alla realtà perché sono qualcuno direbbe uno spirito littorio sì esatto uno spirito ideale ma infatti non a caso una delle unità della milizia si chiamava appunto littorio detto questo quindi troviamo galbiati all'interno di questo feroce scontro anche politico per capire come si collocava la milizia all'interno delle forze armate quindi nel 1923 quando venne istituita anche a fronte dell'ordinamento Diaz e quindi ricordiamo come Diaz all'epoca ministro della guerra avesse in qualche modo fatto una sorta di compromesso nel senso che la milizia accettiamo la milizia come forza sussidiaria alle forze armate per anche smobilitare quindi ordinare le camicie nere che sono degli scalmanati sostanzialmente quindi fa comodo inserirli all'interno di un ordinamento ricordiamo quello che diceva Indro ti ricordi diceva che Mussolini trovò un modo per inquadrare insomma queste milizie un po' fuori dai ranghi si inventò la milizia fascista che con un suo ordinamento non troppo rispettato citando Indro ma comunque mise ordini insomma questo sistema i vari rice provinciali avevano problemi fra di loro rissosi guarda ne parlo appunto domani in questo video che farò in cui dico come nella legge istitutiva della milizia sono previste delle sanzioni verso coloro che non rispettano l'ordine precostituito nel senso che la violenza deve essere ordinata che può sembrare un po' una contraddizione in termini ma nel regime fascista doveva essere in teoria sempre possibile esatto ma nel senso funzionale nel senso che deve essere ordinata e questo è poi tra l'altro il grande nodo dello scontro che vi fu per tutto il ventennio ma anche durante la Repubblica Sociale quindi questo è un elemento che ci riportiamo anche dopo l'otto settembre quarantatré nel rapporto tra federali e prefetti il prefetto essendo il rappresentante del governo del ministero dell'interno ha sempre una prevalenza e una sua superiorità nell'ordinamento del appunto della della quiete pubblica dell'ordine pubblico rispetto al federale che è il rappresentante del partito e quindi allo stesso tempo per per rispecchiamento l'esercito che era adibito alla difesa esterna aveva ceduto nel corso degli anni venti e ancora negli anni trenta l'ordine interno alla milizia sia per e l'esercito ne era contento perché da un certo punto di vista risparmiava risorse nel senso che non devo impegnare soldi afferenti al bilancio della guerra nell'ordine pubblico e secondo quello era sicuro nel mezzo era quel diavolo di Turati così gli assomiglia non sono sicuro perché la qualità della foto non è potrebbe 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 anche perché questa foto così a occhio è dei primi anni trenta così vedendo dalle 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 giacche del dei due indiviso sia Mussolini e Teruzzi quindi potrebbe essere Turati diciamo questa foto potrebbe essere tra il trenta e il trentuno così a spanne quindi sì potrebbe essere lui sì potrebbe essere lui ora o Turati o eventualmente giuriati però vabbè siamo uno dei due sicuramente ma forse più giuriati però perché mi sa me la fai rivedere scusami che sono stati poco un anno a testa ma c'è i baffi non so non riesco a capire se c'è i baffi no è la bocca ah è la bocca vabbè comunque così o è giuriati o è turati comunque stiamo parlando di due stiamo parlando grosso modo trenta o trentuno credo così a occhio questa foto dicevamo quindi elemento importante era questa suddivisione di ruoli che però non soddisfava del tutto la milizia e quindi in questo caso in questo caso Teruzzi che infatti cercò soprattutto a partire dal dalla metà degli anni trenta di incrementare il peso specifico dei delle unità mobilitabili della milizia ossia in questo caso battaglioni e poi anche grandi unità quindi divisioni per un impegno bellico del paese che poi si realizzerà appunto attraverso anche la riforma una delle tante riforme by strocchi appunto la riforma by strocchi cioè si dice che è una sola realtà erano tante perché avevano tanti elementi al proprio interno destinati appunto a rendere pienamente fascista quella che sarebbe stata la guerra d'Etiopia tant'è che appunto che lo stesso l'ho trovato è Puricelli Piero questo questo in mezzo ah perfetto quindi non era né Turati né Galbiati perfetto a posto era un ingegnere imprenditore 1929 fiera campionaria io ho detto 30-31 ci stavo quasi così a occhio le giacche le giacche mi avevano indotto a definire quel periodo e detto questo di conseguenza dicevamo Teruzzi che nel frattempo aumenta anche il suo peso specifico all'interno delle girarchie perché è sempre il discorso girarchie militari intendo perché è sempre il discorso che il problema dei gradi perché i gradi non equivalevano tra esercito e milizia nel senso che vi erano le differenze in cui le carriere del degli ufficiali della milizia erano tendenzialmente più accelerate e tendenzialmente erano meno qualificanti rispetto a quelle dell'esercito vabbè è stato di fatto che alla fine della fiera Teruzzi comunque divenne sempre più insostituibile nella sua doppia veste di di militare in congedo in pensione diciamo però con dei richiami con delle professioni di carriera diciamo in servizio non attivo e allo stesso tempo anche di natura politica tant'è che appunto quando dopo la proclamazione dell'impero con i grossi di grosse difficoltà che si stavano sviluppando in Africa orientale pensiamo al periodo di Lessona come ministro delle colonie e poi ne parleremo parlando proprio di lui e c'erano i grandi scontri anche con Graziani nel senso che c'erano delle lotte intestine all'interno dell'amministrazione delle colonie e questo Cirenaica fu un grande scrittore molto prolifico poi la qualità di quello che scriveva è un altro paio di maniche però diciamo che fu una penna molto era un po' grafomane per certi aspetti quindi diciamo ha lasciato tante cose scritte e soprattutto delle sue esperienze appunto pubbliche quindi nel caso specifico delle esperienze oltremare delle esperienze con prefazione sì guarda questo è interessante hai aperto un un tasto interessante io tempo fa feci un un video proprio sulle pubblicazioni di questo tipo queste soprattutto sulla guerra d'Etiopia questo però è precedente perché vedi anno anno nono dell'era fascista quindi questo è 1930 e quindi riguarda il suo periodo il suo sì 31 sì il suo periodo negli anni venti quindi questo è precedente però nel periodo successivo dopo la guerra d'Etiopia furono tanti a scrivere pensiamo le cronache le memorie della guerra d'Etiopia scritte da Badoglio da Starace da De Bono da Graziani eccetera e tutti quanti avevano la prefazione di Mussolini però è interessante vedere come molti avevano con prefazione di Benito Mussolini oppure con prefazione del duce quindi era tutte pubblicate da mondatori e questi le pubblicavano tutte mondatori tendenzialmente però è interessante come non tutti avessero la prefazione con la stessa intestazione era sempre Mussolini che le firmava però uno era Benito Mussolini un'altra del duce era così era curioso la differenzazione ancora non sono riuscita a capire per come motivo uno era in un modo e l'un'altro però ho registrato questa differenza detto questo Teruzzi quindi lo ritroviamo dopo il 37 come prima come sottosegretario al ministero delle colonie poi divenuto dell'Africa italiana e poi addirittura viene promosso perché c'è l'interim che lo viene Mussolini e dopo nel 39 viene addirittura promosso come ministro nel 39 con il cosiddetto gabinetto Ciano che appunto Ciano aveva i suoi fedeli e Teruzzi diciamo non dispiaceva a Ciano i racconti che le memorie del suo diario non sono particolarmente cattive nei confronti di Teruzzi sappiamo come Ciano sapeva essere molto perfido nei confronti di alcuni suoi colleghi ministri o comunque esponenti politici dell'epoca invece con Teruzzi ebbe sempre parole abbastanza abbastanza lodevoli e però il rovescio della medaglia era sostanzialmente che Teruzzi era considerato generalmente poco poco pericoloso nel senso poco pericoloso per le ambizioni degli altri nel senso che Mussolini come dicevo aveva sempre l'interesse a tenere uomini mai più di due tre anni in un certo incarico era difficile poi magari ci sono delle eccezioni ma limitate e stranamente Teruzzi sostanzialmente rimase al ministero della guerra del ministero delle colonie poi dell'Africa dell'Africa italiana ininterrottamente prima come sottosegretario e poi come ministro dal 37 al 43 sostanzialmente fino al 25 luglio ma la cosa è curiosa egli venne confermato al ministero dell'Africa italiana anche dopo l'ultimo rimpasto del governo fascista che avvenne nel febbraio del 1943 l'impasto in cui per esempio perdette l'incarico anche Ciano poi venne venne degradato sostanzialmente da cioè da ambasciatore da ministro degli esteri ad ambasciatore presso la Santa Sita ebbene Teruzzi venne confermato come ministro dell'Africa italiana essenzialmente per due motivi allora il primo perché l'Italia non aveva più colonie o almeno non aveva più importanza delle colonie siamo nel nel febbraio del 1943 l'impero è già perso da un pezzo la Libia è già persa e le uniche rimaste truppe sono in Tunisia che però è un territorio dell'impero francese quindi l'Italia non ha più nessun tipo di Africa italiana per capire quanto valore potesse attribuire Mussolini a Teruzzi e poi la seconda modificazione perché probabilmente nessuno avrebbe accettato questo incarico un incarico sostanzialmente inutile perché appunto che vuoi ministerare esatto ma ne ha neanche neanche perché ha incorporato ormai perché il Dodecaneso dipendeva dal ministro degli esteri quindi perché era un possedimento non era tecnicamente una colonia quindi capite bene come veramente entra in questo circuito vabbè è stato di fatto che Teruzzi poi sostanzialmente finisce la sua esperienza governativa così in maniera molto molto oscura tra l'altro non ha neanche voce in capitolo nella seduta del 25 luglio perché il suo ministero non non è tale da avere un seggio nel Gran Consiglio quindi non partecipa neanche a quella a quella seduta e lo ritroviamo dopo l'otto settembre sostanzialmente che aderisce formalmente alla Repubblica Sociale Italiana però senza avere nessun tipo di incarico quindi diciamo continua in maniera abbastanza grigia la sua esistenza dopo la liberazione dopo il 25 aprile del 45 viene dato per morto perché si pensa che è stato ucciso dai partigiani in realtà era stato ucciso un suo sosia e quindi in realtà poi scoprono che lui vive ancora e viene per questo imprigionato viene incarcerato all'isola di Procida insieme ad altri gerarchi tra cui anche Graziani Acerbo e sostanzialmente prosegue la sua vita detentiva per 5 anni fino poi al 50 quando viene scagionato viene liberato però in realtà poi la sua salute particolarmente malferma sostanzialmente poi lo porta alla morte dopo pochi giorni che è stato scarcerato quindi diciamo un periodo anche post bellico particolarmente triste ancora più triste perché vive gli ultimi anni in carcere poi dopo ottiene lo scarceramento ma poi muore poco dopo quindi diciamo una situazione veramente disgraziata diciamo una vita una vita costellata da sicuramente soddisfazioni personali per la sua carriera militare e politica ma sempre vissuta sulla sempre come brillante secondo senza avere tutte queste glorie che magari poteva poteva ottenere diciamo in un regime di quel tipo rispetto ad altri che magari hanno avuto dei picchi altissimi e poi sono crollati in maniera miserabile lui ha avuto sempre un andamento costante di crescita passo in passino però senza avere dei crolli però appunto alla fine un passino della politica eh sì diciamo così e quindi questa è la vita di di Teruzzi sfortunato anche in amore degli amori particolarmente agitati poi ha avuto due mogli tutte e due ebrei quindi potete capire che in in periodo fascista soprattutto dopo le leggi razziali non è che se la passasse bene anche perché soprattutto dopo l'otto settembre quindi con i tedeschi dentro dentro casa non è che fosse eh particolarmente ehm particolarmente eh simpatico passiamo ad Alessandro Lessona eh Alessandro Lessona è un personaggio eh molto curioso che possiamo dire agli antipodi di Teruzzi nel senso nonostante anche egli abbia eh ricoperto eh un incarico importante presso il ministero della delle colonie prima come sottosegretario e poi come ministro eh fu eh mosso essenzialmente a da una grande ambizione che lo portò anche a essere un po' mitomane un po' millantatore nel senso che ehm sapeva sapeva un po' ehm come si dice a Roma buttarle in caciara nel senso che cercava di eh utilizzare dei meriti che non sempre possedeva nel senso che aveva la capacità oratoria e questo diciamo sapeva giocare le proprie carte anche diciamo di conoscenze che erano solo conoscenze eh di di poca di poco di poco di poca durata ebbene Lessona che eh iniziò la sua la sua vita come ufficiale di di cavalleria eh quindi ebbe delle esperienze eh militari anche discrete durante la 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 prima guerra mondiale poi pensate che la cavalleria nella prima guerra mondiale non fu sostanzialmente poi equiparata alla fanteria perché non ci furono grandi battaglie a cavallo quindi essenzialmente poi divenne un'arma sostanzialmente eh appiedata ma con il fatto che ehm diciamo era comunque un'arma considerata nobile nel senso di estrazione sociale medio alta e con una eh cultura eh buona egli poi era era laureato quindi diciamo aveva una sua eh una sua capacità anche di eh di coltivare il bel mondo di avere relazioni ripeto non sempre importantissime ma che gli permettevano di 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 trovarsi a proprio agio in ogni circostanza anche cercando di come dicevo di ehm di millantare eventuali altre conoscenze ma è stato di fatto che dopo la fine della eh della prima guerra mondiale avendo eh tra l'altro combattuto anche in Macedonia e Falcone ha preso anche lui la metà di argento sì 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 poi in Francia secondo corpo esatto esatto sia esatto sia in in nei Balcani nel fronte balcanico sia in Francia e questa fu un'esperienza molto molto eh molto importante perché perché eh oltre ovviamente a maturare una conoscenza del francese eh sicuramente di di buon livello lo portò a entrare nelle grazie di tutta una serie di di personaggi di un certo ha avuto un po' di sfiga di entrare nelle grazie di Diaz eh no 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 guarda no perché comunque in realtà poi lui già aveva ehm lui arrivò al nelle grazie di Diaz in due momenti sia al momento quando Diaz era al comando supremo negli ultimi mesi di guerra e nei mesi successivi ma poi questa cosa lo portò ad essere a entrare nel ehm nei nel gabinetto del ministro della guerra anche prima di Diaz quindi diciamo che fu ehm una sorta di ehm ehm di di continuità tra il ehm il il mondo politico liberale e quello fascista domanda è quello il motivo per cui si dimise subito dopo la marcia su Roma e poi aderì al fascismo dopo ma allora lui allora sì potrebbe sì possiamo dire di sì nel senso che egli allora egli come si dice essendo ehm abbastanza opportunista capiva capiva le ehm le opportunità che gli si presentavano e sicuramente il fatto di ehm unire insieme una sua esperienza pregressa come militare a un'esperienza pregressa nel mondo diciamo diplomatico perché comunque eh partecipò ad alcune eh attività eh durante la conferenza della pace di Parigi gli e tra l'altro alla conferenza della pace di Parigi dove anche lì ehm ebbe modo di frequentare Diaz perché comunque Diaz all'epoca sia come comandante eh supremo ma anche con altri incarichi eh aveva una sua eh frequentazione degli ambienti interalleati per capirci sia prima della fine della guerra ma anche dopo la fine della guerra quindi in questo senso secondo me eh l'abilità di eh di Lessona fu quella di saper fare all'occorrenza un piccolo passo neanche indietro laterale per riuscire a trovare una migliore collocazione e questo eh lo portò ehm a trasferirsi da Roma dove egli risiedeva in Liguria in Liguria eh riuscì in qualche modo soprattutto a Savona a costruirsi la Liguria era un ehm la Liguria era un terreno diciamo eh non eh non inflazionato per il fascismo nel senso che era un bacino ehm vergine possiamo dire così in cui non vi era sostanzialmente un eh un ras locale e quindi lui capì che poteva essere un luogo adatto per poterselo creare lui e questo unito a delle sue conoscenze del mondo albanese eh lo portarono nella seconda metà degli anni venti a far intendere a Mussolini che la sua la sua attività i suoi servigi potessero essere utili nella nel rafforzamento eh degli interessi e quindi delle ehm delle attività sia militare che politiche ma anche commerciali dell'Italia in Albania in realtà erano molto spesso delle cose non del tutto veritiere nel senso che anche questa circostanza millantava molto cose che in realtà non 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 possedeva però appunto gli permisero comunque di avere una sua eh progressione di ehm di 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 importanza questo è un volume di memorie che egli scrisse dopo la seconda guerra mondiale che in qual edizione si se ne stampava da lui aveva una si si aveva una piccola casidrice diciamo sostanzialmente poi stampava i libri suoi e qualche altra cosa però diciamo fu abile e poi lo vedremo dopo la seconda guerra mondiale tant'è che morirà centenario una vita lunghissima anni 90 no? si 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 tra l'altro non non è non è ben chiara neanche la sua la effettivamente ehm ci sono dei delle ipotesi che hanno anticipato la sua nascita in realtà potrebbe essere che non è non sia nato effettivamente nel mille ottocento novantuno quando ehm è ufficialmente nato in realtà era nato prima quindi in realtà non era centenario ma addirittura anche cento due cento tre anni una cosa è nata una leggenda che dice che era molto più vecchio di quello che in realtà eh fosse però cioè indipendentemente da questo è veramente una vita lunghissima e questa cosa ripeto ehm lo ha portato eh di capacità di inserirsi all'interno del mondo che conta ehm avvicinarsi al mondo delle colonie il mondo delle colonie di cui egli aveva una conoscenza all'epoca limitata non è che fosse un grande esperto aveva sì delle molto colto leggeva molto aveva sicuramente una capacità di adattarsi ai problemi che ci stavano poi che li sapesse risolvere un altro discorso però diciamo diciamo aveva aveva eloquio per ehm per presentarsi come edotto come erudito di tanti argomenti detto questo ehm vedi edizioni AL sarebbe Alessandro Lessona è sempre lui che è sempre lui che si pubblica le cose che non è un difetto non è una critica nel senso è sempre stato intraprendente in qualsiasi cosa faceva era molto intraprendente detto questo quindi si inserì anche come ehm sottosegretario di De Bono nella nella prima metà degli anni trenta facendosi piano piano la strada e preparando di poter fare le scarpe allo stesso De Bono e qui aggiungiamo un altro aspetto egli era ehm il cugino di ehm del generale Pirzio Biroli che in nella campagna dell'Africa orientale ehm comandava un corpo d'armata voi direte e quindi eh e quindi il punto è che eh si diciamo si sostenevano i due cugini Pirzio Biroli con con Lessona si sostenevano nella loro personale ehm progressione Biroli o Biroli perché come Cecini se parli con me ti dico Cecini se parli con mio cugino che è un latinista dice Cecini quindi diciamo che dipende dai 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 punti di vista io dico Biroli però se togge persone dico anche Biroli però Biroli mi piace di più eh dicevamo e quindi eh l'elemento interessante che fece sostanzialmente le scarpe a a De Bono tra l'altro De Bono che poi gli fece le scarpe pure a livello militare perché eh prese il suo posto eh Badoglio ma Lessona ebbe la fortuna poi di proseguire dopo la la proclamazione dell'impero un periodo fino alla al mi pare al trentasette in cui appunto si inserì anche nella nella promozione del cugino eh Pircio Biroli che eh che che ottenne un un governatorato in colonia stati fatto che poi come dicevamo eh la colonia era l'impero era molto era era terreno di scontro e un luogo molto litigioso eh di di grandi litigi tra eh filiere militari e politiche tant'è che appunto ci furono dei continui scontri tra Graziani che era un personaggio come sappiamo particolarmente eh difficile da trattare sotto tanti aspetti quindi e quando c'è di Graziani un saluto a Metal Mike esatto ciao eh che tra l'altro è uscito un meme c'era un meme che c'era lui davanti alla tomba di Graziani qualcosa del genere ecco fanno anche i meme di di Metal Mike e su Graziani vi dico una piccola chicca mi hanno chiamato ehm quelli della Repubblica di San Marino sì e mi hanno chiesto se ehm li do il contatto di Metal Mike che per parlare di Graziani addirittura San Marino pensa un po' vabbè quindi sarà divertente insomma allora perché l'avrà un po' cogliesi la lingua ma perché poi lui sta lì vicino no San Marino lui sta lì dove sta Pesaro Urbino dove sta dove sta Metal Mike quindi da quelle parti quindi vicino Fossombrone eh esatto da quelle parti là quindi detto questo eh quindi sostanzialmente in maniera diciamo Salomonica Mussolini fece un grosso repulisti e quindi licenziò Lessona e licenziò pure ehm Graziani e mise ehm si riprese si riprese l'interim della del del Ministero delle Colonie eh sì del Ministero delle Colonie e diede l'incarico a a Teruzzi di qui sopra e al posto di Graziani ci ha messo il Duca d'Aosta vabbè quindi per eh Lessona sostanzialmente fu l'inizio della fine o meglio per per come abbiamo visto non finirà mai la vita di Lessona quindi Lessona camperà altri diciamo diciamo porterà sotto la tomba tanta gente di quelli che appunto morirà nel 91 però diciamo la sua vita politica finisce lì nel senso che non avrà altri incarichi dopo questo periodo abbastanza brillante come prima sottosegretario e poi come ministro della delle colonie poi sostanzialmente tornerà a a incarichi privati farà il professore universitario e questo sarà un elemento importante per lui perché visto che non verrà poi eh dopo la guerra eh dopo la durante la guerra non ebbe non ebbe nessun tipo di impegno né politico né militare e dopo la guerra sostanzialmente non venne considerato responsabile di crimini del fascismo crimini politici eh responsabilità tant'è che lo hanno anche reintegrato eh nella nell'incarico universitario che aveva precedentemente tant'è che insegnerà storia politica coloniale ehm alla sapienza percependo poi anche tutti i monumenti e varie indennità del dell'incarico fino ad essere tra l'altro anche eletto al Parlamento eh col Movimento Sociale Italiano quindi ebbe anche una e anche con altre formazioni conservatrici c'è il Partito Democratico eh di unità monarchica queste 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 formazioni queste questa queste diciamo formazioni varie di di destra e occupandosi anche di problemi legati al al posto colonialismo ai reduci eh e tra l'altro anche eh collocandosi diciamo trovandosi in scontro sulla memoria delle colonie soprattutto con Del Boca che già all'epoca ehm portava avanti il discorso dei gas eccetera e qui diciamo che eh Lessona ovviamente portava l'acqua al suo pulino visto che era stato tra l'altro pure ministro delle colonie e in quel periodo particolarmente difficile come quello eh successivo eh alla sia durante la guerra di Etiopia ma soprattutto anche quella immediatamente eh successiva quindi c'è un personaggio particolarmente eclettico che non lo ricordiamo come grande gerarca del fascismo ma che a suo modo secondo me ha segnato in qualche modo eh lo spirito del fascismo di come fosse eclettico allora passiamo a Galbiati questo questo signore elegante con questa uniforme eh della della milizia Galbiati per alcuni aspetti ehm lo possiamo comparare a ehm a Teruzzi di cui di cui sopra eh anche lui Lombardo ehm diciamo la sua la sua carriera eh però è quasi sempre anzi no sempre in divisa portava sempre una divisa qualche divisa di qualche cosa la portava sempre mentre diciamo Galbiati ha avuto anche occasioni in cui non avrebbe potuto non portarla la divisa poi magari la portava uguale però non era non era sempre in servizio Galbiati che ehm iniziò eh pure lui non ebbe grosse fortune scolastiche ma in qualche modo riuscì a arrivare al al diploma ehm partecipò alla prima guerra mondiale come come ufficiale e questa esperienza sarebbe stata il trampolino di lancio per una lunga carriera indivisa eh dopo la guerra siccome lui è stato anche ha partecipato all'impresa di fiume sì sì mi hanno chiesto se vorremmo organizzare in futuro proprio un qualcosa sull'impresa di fiume su d'annunzio ma bene rapporti d'annunzio Mussolini insomma raccontare quella che poteva essere l'unica ombra di ideologia fascista e io ci butterei anche nel mezzo perché ormai abundantis no eh Ezra Paolo sì su Paolo non sono molto esperto però in qualche modo ci mi posso preparare nel senso che ce lo possiamo inserire allora sicuramente è un argomento di grande fascino perché perché la carta del Carnaro cioè sono temi e sono temi ehm come si dice di grande di grande interesse per le prospettive del fascismo che sarebbe potuto essere e che non fu no anche perché così posso fare tutte le battutacce su Mussolini a parte le battutacce su Mussolini no ma ma è veramente interessante perché la componente sociale che ogni tanto torna nei movimenti di destra come elemento anche di terza via guarda magari da profitto chiamo anche Marco Cimmino così vi faccio dialogare voi due volentieri una carta del Carnaro sull'impresa di fiume guarda va bene va bene non anticipiamo nulla perché sennò poi dopo diciamo usciamo dal dal seminato ma secondo me è un tema a me interessa particolarmente perché è un tema che trovo molto stimolante nell'analisi anche appunto ideologico programmatica di quello che che poteva essere fiume indipendentemente dall'elemento politico meramente politico diplomatico quindi l'elemento ideologico anche nel rapporto di quello che era il movimento fascista all'inizio con degli ideali dei programmi socialisteggianti ecco passami il termine che poi appunto si andarono a svaporare a sciogliere come neve come neve al sole tornando a Galbiati Galbiati quindi partecipò all'esperienza fiumana e fu un'esperienza particolarmente particolarmente ehm formativa e caratterizzante per per Galbiati perché appunto avendo già un un trascorso come reduce con una sua anche attività valida nel senso militarmente parlando cioè comunque aveva avuto delle delle promozioni eh sia appunto dicevo inizialmente nel rango della della truppa perché appunto non aveva eh titoli di studio eh tali da potergli permettere la 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 nomina immediata come ufficiale ma poi dopo partecipando a dei corsi accelerati perché sapete come sapete bene soprattutto a partire al diciassette vi era una penuria di ufficiali quindi vennero fatte delle sostanzialmente anche chi non aveva il il diploma completo riusciva in cioè la maturità di cinque anni riusciva in qualche modo ad essere avviato ai corsi accelerati di ufficiali di complimento detto questo eh quindi eh la sua partecipazione all'esperienza più umana unita alla sua già adesione al fascismo perché lui fu diciamo come si dice eh un fascista quasi della prima ora poi essendo Lombardo no? Il fascismo è un'acqua a Milano quindi con tutte le complicazioni di ordine anche geografico nella realtà tra il fascismo rurale e quello urbano, tutti questi temi molto importanti nella comprensione dei fascismi oltre che appunto della sua globalità. Ebbene quindi iniziò sostanzialmente Galbiati a collocarsi come un esponente affidabile, come un esponente competente sotto l'elemento meramente operativo, cioè di menare le mani, ecco questo è col pugnale, col manganello, con la pistola, cioè ci sapeva fare, era uno che non si creava troppi problemi ad essere uomo di azione ed era una delle componenti di cui Mussolini aveva bisogno sostanzialmente a te che in occasione poi della marcia su Roma fu molto attivo sia nel presidio di Milano, sostanzialmente poi lui fa capo della difesa della redazione del popolo d'Italia ma poi partecipò anche con una colonna attiva a Roma e questa esperienza lo portò appunto ad essere tra i primi, i primi di una certa elite di comandanti della milizia. Parlavamo prima del primo febbraio del 23, ebbene col primo febbraio del 1923 quindi con la istituzione della milizia ebbe modo di trovare un impiego, cioè quello era pure anche un problema, nel senso trovare un impiego, lo vedremo come fu per Muti un grande problema trovare un impiego, cioè questi qua, vabbè, facevano i capi bastoni, facevano chi menava, però poi dovevano pure trovare un'occupazione, uno stipendio fisso per campare, per mettere su famiglia. E quindi trovò nella realtà della milizia, attraverso un percorso di carriera che si stava piano piano consolidando, Antec appunto ebbe sempre delle promozioni progressive, console e poi console generale, quindi ebbe comunque una sua progressione che lo portò a comandi di unità sempre maggiore, appunto legione, gruppo di legioni, eccetera, nel corso degli anni venti e degli anni trenta. E questa sua esperienza, questa foto è sicuramente del 41, così a occhio, così da vedere dalla divisa, questa sarà sicuramente o in Albania o sta per partire per l'Albania con il gruppo Galbiati che prenderà il suo nome, ma ci arriveremo. E dicevo, ottenne una serie di promozioni, tant'è che appunto nel corso degli anni trenta, poi egli partecipò alla guerra... eh, che brutti ceffi, eh, partecipò alla guerra di Etiopia dove appunto ebbe modo di, ehm, di incrementare la propria, non solo la propria collocazione all'interno della milizia, ma anche di avere una certa credibilità, un certo nome per, eh, avere incarichi sempre, sempre e maggiori. Tant'è che appunto in occasione della, della seconda guerra mondiale, eh, ebbe altri incarichi sia sul fronte francese che ipoteticamente sulla difesa orientale contro la Jugoslavia, fino appunto ad essere mobilitato, eh, per l'Albania. E l'Albania appunto comandò il raggruppamento Galbiati che, eh, univa a sé più battaglioni. E, diciamo, le, le vicende furono, eh, alterne, nel senso che sappiamo bene come la campagna, ehm, greco alba, del fronte greco albanese, non aveva, eh, tutti questi successi, io lo sto facendo piano piano, leggendo i diari di, il diario di Cavallero, nel senso che, mh, si faticava parecchio, diciamo, le, i sacrifici richiesti alla, alle truppe erano notevoli, soprattutto poi quelli della milizia che facevano un po' da tappabuchi, in cui appunto venivano molto spesso le legioni, inserite come terzo elemento per integrare le famose divisioni binarie, no? Le divisioni binarie che erano divisioni di fanteria costruite da due reggimenti, gli mancava una terza componente e ci mettevano la legione delle camicie nere, che non era sicuramente, eh, diciamo, equiparabile a un reggimento di fanteria, ma meglio di niente sicuramente era, però con tutti i problemi che annessi e connessi. Vabbè, comunque, alla fine, diciamo, Galbiati fa la sua figura e ottiene, dopo la, la fine delle ostilità, l'incarico di capo di stato maggiore della milizia, sostituendo Starace, l'infido Starace, il maldestro Starace, che era già stato defenestrato nel 39 dalla segreteria del partito, ebbene, viene, dopo un anno e mezzo, viene anche defenestrato dall'incarico apicale presso la milizia. Ecco, qui mi viene, secondo me chiedo, buonasera amico, che ne pensi il professor Alessandro Orsini? Starace? E ho detto tutto. Mi sembra, mi sembra, mi sembra di, 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 di poter, di poter trovare, concordo, concordo, concordo. E, tra l'altro, anche, anche la stessa, le stesse gaff, no? Diciamo, le gaff, e tu ne sai qualche cosa, no? Diciamo, le gaff veramente da, 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 esatto, esatto, e da d'osteria che commetteva Starace mi sembra che il soggetto, poco anzi citato, abbia le medesime, le medesime attitudini di, di, come si dice, l'innaffiatore innaffiato, no? Dove tanta l'aprespopea, tanta l'attitudine di, di fare il, il superiore che poi dopo diventi tu stesso zimbello delle tue malefatti, delle tue, delle tue, eh, chiacchiere... Doppi superbi a doppi a caduta. Esatto, esatto, esatto. Quindi detto questo, quindi Galbiati interpretò dal 1941 al 43, quindi circa per due anni, l'elemento potremmo dire duro e puro della milizia. La milizia che ha la necessità costante di riaffermare il proprio ruolo militare durante una guerra, una guerra totalizzante come la seconda guerra mondiale, come questa situazione particolarmente difficile, la guerra subalterna dell'Italia con tutto ciò che sappiamo a livello di complicazioni sia operative, la necessità di far fronte a tante realtà diverse, problematiche, con nemici totalmente diversi, gli inglesi in Africa, i greci nei Balcani, gli icoslavi, i russi, eccetera, quindi una realtà veramente complicata sotto ogni punto di vista. Ma il problema, anche con collaborazioni più o meno sentite con i tedeschi, quindi con tutto ciò che sappiamo nella subordinazione, nella sudditanza che l'Italia aveva sempre di più, soprattutto a livello militare, con i tedeschi. Vabbè, sta di fatto che Galbiati arriva anche egli all'appuntamento del 25 luglio, un appuntamento del 25 luglio che vede Galbiati, diciamo, defilato, nel senso che egli è ancora appunto il vertice tecnico della milizia, ma la milizia soprattutto, e questo è un elemento che mi piace ricordarlo, nel senso che non vuole essere una giustificazione, vuole essere una comprensione, è una cosa importante. Molto spesso la lettura che viene data al 25 luglio è un tradimento, è passato costantemente nel luogo comune, nella definizione, il 25 luglio come colpo di stato, come tradimento, come rovesciamento coperto dal re di uno stato di fatto. Bene, non dobbiamo mai dimenticare come dai verbali, dagli stessi racconti, dello stesso Mussolini, delle esperienze dei più fedeli che sono stati accanto, Mussolini in qualche modo vide l'esperienza del 25 luglio quasi come una liberazione, una liberazione da tutti i fardelli, cioè Mussolini era stanco di fare la guerra, adesso non voglio stare a giustificare Mussolini, però era faticoso in quelle condizioni veramente, cioè con gli americani in Sicilia, con i tedeschi che opprimevano, lui che veramente non riusciva neanche a parlare a Hitler, Hitler gli vomitava addosso ogni volta che si incontravano enormi, enormi invettive eccetera. Quindi Mussolini sostanzialmente suggerì a Galbiati come capo della milizia e a Scorza, e ne parleremo fra poco, come segretario del partito nazionale fascista, moderazione, evitare scontri interni. Mussolini era, vi possiamo attribuire tutti i difetti del mondo e tutti i crimini del mondo, ma non erano sciocco, e sapeva che una eventuale lotta interna in Italia nel luglio del 1943 sarebbe stato funesto. Intanto è che quando si parla di Mussolini, libero dei tedeschi, è rimesso a capo dello Stato fascista, sappiamo che è una stupidaggia, nel senso che Mussolini era schiavo dei tedeschi, che era praticamente quando vide i tedeschi che lo liberavano al Gran Sasso, quasi quasi non ci voleva andare. Basta guardare le foto. Esatto, non è contento di questa situazione, stava meglio lì, sto là, in qualche modo forse riuscirò a salvarmi, un salvacondotto, gli inglesi me lo daranno prima o poi in funzione antirussa, quindi quello sarà l'inizio della fine, non il 25 luglio, è la liberazione. Vabbè, quindi sostanzialmente la figura di Galbiati poi entra, attraverso anche questa narrazione del tradimento, sostanzialmente un tradimento anche da parte di Galbiati, nel senso che non ha fatto niente, lui che era depositario di un tesoretto di armati, di fedelissimi, di puri e duri che sarebbero morti pur di difendere il proprio duce, sostanzialmente non ha fatto niente. Quindi è passato così l'avvicendamento da Mussolini a Badoglio senza che la milizia, come del resto del partito, non facesse sostanzialmente nulla. E infatti questa situazione lo portò ad essere anche incriminato durante la Repubblica Sociale Italiana, ad essere arrestato durante la Repubblica Sociale Italiana e sostanzialmente ebbe dei problemi nella gestione della situazione successiva. Quindi in qualche modo riuscì, dopo la Repubblica Sociale, in qualche modo a discolparsi delle proprie responsabilità che però non gli sarebbero state risparmiate dopo la guerra. Dopo la guerra egli ebbe un sacco di problemi, nonostante, questo è quello con Garibaldi, questi due pezzi a 90, abbiamo Garibaldi e Galbiati, quindi il che è tutto dire. Questo sicuramente, questo è in Russia, perché vedete qui, Garibaldi c'è una divisa bellica e c'è la croce di ferro al taschino. Esatto, questo sicuramente, questa è una foto così a occhio del 40, 42, fine 42. 10 settembre 1942. Hai visto, fine 42, ci siamo, secondo semestre 42. e dicevo, quindi Galbiati che ebbe un sacco di problemi nella situazione sia della Repubblica Sociale che Mussolini in qualche modo non si fidava più di lui, ma in realtà non si fidava più di lui in maniera tattica, nel senso che doveva, come tanti altri, fungere da capo espiatorio per la caduta del fascismo. Ebbene, però la cosa importante è che dopo la Seconda Guerra Mondiale cercò in qualche modo di affrancarsi, di scrollarsi di dosso le accuse che gli vennero rivolte, gli vennero rivolte da alcuni esponenti della destra neofascista di essere un fellone, di non aver fatto niente per difendere il fascismo e tra l'altro una cosa curiosa che per tanti anni gli venne rifiutata l'iscrizione all'associazione combattentistica degli ex appartenenti alla milizia già è un paradosso che dopo la Seconda Guerra Mondiale potesse essere un'associazione ex combattentistica della milizia, vabbè, nella Repubblica Italiana però diciamo che diamo per scontato che esisteva sta cosa e che fosse legale beh, rifiutarono l'adesione di Galbiati proprio per i fatti successivi al 25 di luglio vabbè, diciamo che è stato di fatto che poi alla fine riuscì attraverso una specie di raccomandazione lui che era stato il capo del Stato Maggiore della milizia, pensate un po' riuscì tramite una raccomandazione, un tentativo di un suo ex collaboratore di farlo entrare in questa associazione però diciamo la sua vita può sostanzialmente... Scusa perché voglio rispondere, ci sono fiorfiori di storici autorevoli che insegnano esattamente l'opposto la Repubblica Sociale non fu stato fantoccio io dico soltanto quello che dicono le memorie delle stesse della Repubblica Sociale che era letteralmente il prigioniero delle SS cioè la guardia Mussolini la facevano alle SS, non la facevano gli italiani si si sposa male come teoria il fatto che la guardia privata di Mussolini era la SS non poteva neanche andare al bagno ma indipendentemente da questo lo vediamo nella documentazione che riguarda per esempio il Ministero degli Interni Buffarini Guidi che ha sempre difficoltà nella gestione dell'ordine interno cioè l'ordine interno, la polizia della Repubblica Sociale Italiana spesso e volentieri non contava nulla perché agiva la prepotenza dei comandi militari tedeschi cioè in Italia comandavano i tedeschi sia sotto l'aspetto militare cioè nel senso posso capire che i comandi militari avessero preminenza su quelli italiani visto che il grosso delle truppe erano quelli tedesche quindi questo ci può pure stare, diciamo a me se non concesso ma l'elemento di ordine interno, la gestione dell'ordine pubblico la gestione delle situazioni anche organizzative molto spesso erano di appannaggio esclusivo dei comandi militari tedeschi in cui il Ministro degli Interni, il Partito Nazionale Fascista Repubblicano quindi Pavolini erano spesso e volentieri succubi delle autorità tedesche perché erano loro che avevano il mazzo in mano questo lo racconta anche Graziani nelle sue incomprensioni nella sua incapacità di riuscire a costituire qualcosa di efficiente sotto l'aspetto militare quindi diciamo onestamente poi ognuno ha la libertà di dire quello che vuole nel senso che non è che uno può impor ad altri di non dire quello che vuole però diciamo che studi autorevoli, studi basati su fonti attendibili perché poi questo è il discorso, la differenza tra l'opinione e un qualcosa che ha invece una sua validità probante cioè legata a della documentazione anche alle stesse memorie come giustamente dicevi tu cioè se noi leggiamo dei testi che in qualche modo si riferiscono a delle persone dell'epoca beh capiamo bene come la realtà diciamo ma le stesse azioni, ricordiamoci il carceriere di Mussolini Karl Wolf che liberò Parry sì sì, allora cioè liberò un elemento della resistenza come dire noi ce le laviamo le mani smazzatevela voi fa l'altro accordò la resa contro gli ordini di Hitler seguendo gli ordini di Himmler sì, ma allora sì, ma lì c'è un gioco come si dice un un ferocissimo scontro politico anche tra le stesse autorità tedesche no? della delle dei modi di interpretare gli ordini di Hitler nel senso che ovviamente gli ordini di Hitler erano paranoici erano legati anche a una adattabilità delle situazioni e poi però alla fine poi sul campo la realtà era completamente diversa questo lo sappiamo anche per gli scenari completamente militari no? infatti dice Hitler diceva non bisogna eh lasciare al nemico neanche un palmo poi ci sono gli arretramenti quindi che 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 Hitler avrebbe potuto mettere al muro intere intere formazioni militari perché erano arretrate rispetto all'ordine categorico di rimanere eh sulla linea o morire o o o non far passare il il nemico quindi diciamo che vi devo dire diciamo gli studi le 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 fonti che io ho avuto modo di esaminare diciamo ci dicono che l'autonomia politica della Repubblica Sicilia italiana era particolarmente limitata quindi diciamo spesso ci si scorda che i tedeschi in aperta violazione con i trattati italiani si eh annessero Trentino Alto Adige ma non solo ma non solo il Trentino Alto Adige anche tutto il la Venezia Giulia sostanzialmente si andarono a recuperare quello che eh aveva perso l'Austria Ungheria nel 18 sostanzialmente quindi diciamo è la e che avevano promesso di rinunciare con il permesso di di Mussolini eh sull'Angelus le rivendicazioni vabbè ma qui allora qui se parliamo di di promesse fatte i tedeschi eh non hanno mai mantenuto nessun tipo di promessa cioè quando l'Italia viene anche giustamente per alcuni aspetti eh accusata di slealtà verso i patti verso le alleanze no è un luogo comune quello di dire ah l'Italia inizia una guerra con una e finisce con l'altra allora ci può anche stare ma vogliamo parlare di tedeschi che hanno fatto un patto in un'aggressione con l'Unione Sovietica e dopo un anno e mezzo dichiarano guerra all'Unione Sovietica cioè che avevano garantito eh la l'intangibilità della cieco-slovacchia eh solo dopo aver annesso solo i sudeti cioè di cosa stiamo parlando quindi quindi cioè il più come si dice oppure questa a Roma il più pulito c'è la rogna nel senso che in diplomazia i trattati valgono finché fa comodo far di valere poi dopo non valgono più nel senso che un trattato può valere può valere eh un mese come valere 50 anni ma solo se ti fa copo se no non lo stracci e questo vale ovviamente anche per la realtà eh della del Reich nei confronti dell'alleato italiano sia prima che dopo l'8 settembre come finisce il nostro amico? Quindi Galbiati poi funzionatamente finisce in un ospizio in mezzo ehm con dei problemi anche di senili diciamo di di grossa eh di grossa difficoltà anche nella parola cioè veramente una vita una morte anche molto triste nel senso che aveva se in gioventù in maturità aveva avuto dei grandi ideali più o meno condivisibili questo non entriamo nel merito ma poi diciamo dopo la dopo il 25 luglio è un progressivo scivolamento verso una situazione sempre più io sto qui a ridere il libro Icebreaker scritto da un ex sovietico sì che è pieno di fandonie smontate da Glanz qui già capiamo dove Tyro va a leggere la roba cioè sulla controstoria è stato smontato da qualsiasi storico che si occupa di fronte orientale le stesse memorie dei generali tedeschi dissero che vennero ingannati da Hitler sullo stato di preparazione dell'esercito russo è il video di Suvorov che è un cazzaro di livelli incredibili e il suo libro è stato smontato da praticamente un centinaio di storici House Citino Cavalercic Glanz House per citarne alcuni quindi se leggete Fantastoria poi non venite a fare queste storie perché il video non sono sbagli si chiama non mi ricordo mai se Suvor è uno di quei libri da considerare tipo quelli di Romers cioè completamente controfattuali e raccontiamo anche perché lui dice queste cose perché uno che è scappato dall'unione sovietica e ce l'ha a morte con il regime di Putin e quindi deve raccontare l'opposto di quello che si racconta in Russia inventandosi delle fandonie io ce l'ho il libro ho parlato se andate a recuperare il video su libri di storiografia militare è citato tra i libri da non leggere perché è proprio pieno di cavolate e le fonti non reggono perché non esistono di che stiamo parlando guarda io mi ricordo che su sta storia me ne ero occupato diciamo l'avevo citata ma giusto per citarla come elemento della storiografia che poi appunto fosse ampiamente discutibile ma io lo dicevo già mi ricordo nel 2011 nel 2011 che partecipai la Sapienza e lo Stato Maggiore dell'Esercito organizzarono un convegno su in quel caso era il settantesimo dell'operazione Barbarossa dell'attacco dell'asse all'Unione Sovietica e citavo questa cosa di questa di questa teoria che però era era ampiamente discutibile no anche perché c'è un piano russo di invasione c'è di fattibilità di invasione della Germania del del 39 dove gli stessi russi hanno documentato no non siamo in grado sì sì non siamo ancora a uno stadio di preparazione tale dal poter invadere c'è proprio il documento Glanzo lo fa anche vedere quindi questo lo facevano tutti anche i francesi avevano un piano di invasione ma c'è ma c'è giochi e teorie giochi e teorie quindi c'è anche il paradosso che gli stessi russi hanno fatto un eventuale studio di fattibilità di invasione dei tedeschi si sono detti da soli no nel 39 non siamo in grado ma questa è nella normale logica se ci andiamo a vedere gli studi degli stati maggiori esistono degli uffici appositi che fanno qualsiasi tipo di studio nel senso che qualsiasi confinante tu possa avere c'è uno ipotetico scenario di guerra ma anche per semplicemente per analizzare il potenziale militare nel senso che c'è la frontiera montana c'è truppe montane adatte a quello scenario ma non necessariamente poi lo devo fare a maggior ragione se poi arrivo alla constatazione che non sono capace a farlo quindi non ho i mezzi per realizzarlo vabbè comunque eviterei altre abbiamo perso pure troppo tempo secondo me affrontato questo discorso torniamo a noi vogliamo parlare di Ettore Muti con il prossimo blocco di biografie che sono i militanti militanti che sono appunto quattro abbiamo Muti Serena Vidussoni e Scorsa e io li accoppierei nel senso cioè direi che la carriera di Muti è molto simile a quella di Vidussoni e quella di Serena è molto simile a quella di Scorsa ma vi dico perché solo intanto tutte e quattro nell'ordine sono stati segretari del partito nazionale fascista Muti dal 39 al 40 un anno ade Serena dal 40 al 43 scusate dal 42 quindi un anno e mezzo poi Vidussoni dal fine del 40 del 40 no scusa del 40 no scusa Serena dal 40 al 41 quindi un anno circa Vidussoni dalla fine del 41 all'inizio del 43 quindi un anno e mezzo circa e Scorsa pochi mesi dal febbraio del 43 fino al a luglio del 43 fu l'ultimo segretario del partito nazionale fascista poi dopo il partito sarebbe stato ricostituito ridenominato nella Repubblica Sociale Italiana con segretario eh Pavolini bene Muti Muti un personaggio che come dicevo all'inizio lo ricordiamo prevalentemente per la sua morte meno per quello che ha fatto un personaggio genio e seregolatezza diciamo così diciamo più seregolatezza che genio che perché di genio non è che avesse più che genio direi fegato e seregolatezza rende molto meglio eh era nato nel 1902 eh a Ravenna eh Seppi Dietri Dietri disse un buon diavolo di Seppi Drichi aveva poco cervello ma aveva fegato ah ok ok eh di Ravenna tra l'altro Mussolini eh come si dice mh a un certo punto eh diffuse la voce o qualcuno diffuse la voce ma lui non la smentì mai che potesse essere suo figlio un figlio naturale così buttata là tanto per queste leggende che si durante regime si si andavano a ad accavallare vabbè un personaggio particolarmente effervescente che dannava l'animo della madre eh che era una povera donna che cercava in qualche modo di arrabbattarsi e cercare di origini nobili però sì di origini nobili sì ma una donna di origini nobili ma molto pratica nel senso che veramente le le donne di casa cioè donne di casa quelle che non che facesse la casalinga nel senso magari era anche casalinga però che cercava un po' di reggere anche l'economia eh l'economia eh domestica no? e cercava soprattutto di 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 dare un futuro accettabile a questo figlio era del gruppo di Balbo eh sì sì nel senso che ehm ebbe allora lui era di Ravenna Barbara di Ferrara eh però ebbero eh delle collaborazioni ovviamente la realtà dello squadrismo romagnolo eh sicuramente ha una sua una sua valenza sì ebbero numerosi contatti e diciamo collaborarono spesso insieme nonostante la differenza poi di età eh però diciamo erano sicuramente mh come si dice erano affini nella nella nel tipo di approccio amavano lo stoccafisso amavano lo stoccafisso amavano le donne amavano le donne eh grande grandi amatori entrambi e detto questo eh il giovanissimo Ettore Muti sostanzialmente a a tredici anni quattordici anni visto che era un ragazzone era un era un robusto eccetera scappa di casa e si va eh ad arruolare sotto falso nome eh no cioè scusate si vorrebbe arruolare nel quindici sotto falso nome ma capiscono che è è un pischelletto è troppo giovane lo ripandano a casa ci riprova eh due anni dopo nel diciassette falsificando dei documenti con sotto con identità falsa e probabilmente raggiunge il fronte nel frattempo di anni ce n'ha quindici ne dimostra almeno diciotto in qualche modo è credibile e si fa notare per un suo fegato nel senso che combatte ehm tant'è che gli vorrebbero anche dare una medaglia una decorazione quindi diciamo che la l'elemento burocratico ecco l'elemento burocratico di questa eventuale decorazione lo porta a dover presentare della documentazione un po' più attenzionata attenzionata sulla sua e tant'è che sgamano scoprono che in realtà è un millantatore che non è lui cioè il senso che era un altro e quindi lo rimandano pure a casa vabbè è stato di fatto che la sua esperienza militare anche particolarmente meritoria sotto l'aspetto del valore militare viene completamente depennata da qualsiasi da qualsiasi registro militare perché sostanzialmente come se la guerra non l'avesse fatta l'ha fatta sotto falso nome quindi per il per il reggio esercito non valeva niente ecco vabbè comunque egli sempre desideroso di essere attivo nella sua nella sua verve di picchiatore di uomo di azione non poteva mancare una sua partecipazione all'impresa fiumana e l'impresa fiumana anche la croce di ferro beh sì è certo dopo ne parliamo del suo del suo petto non anticipare troppo che abbiamo delle cose piccanti su questo aspetto e dicevamo la sua esperienza a fiume sarà particolarmente caratterizzante per lui tant'è che la sua conoscenza anche con D'Annunzio fu molto frizzante tant'è che appunto lì nacque la leggenda di 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 come Jim dagli occhi dagli occhi verdi anche se in realtà poi gli occhi verdi non ce l'aveva e e quindi in qualche modo la sua il mito che nascerà nella suo rapporto anche con D'Annunzio veritiero però diciamo in qualche modo diciamo tutta l'impresa di fiume è mitizzata e quindi allo stesso tempo viene mitizzato questo questo ragazzotto che è un po' la mascotte del del gruppo che fa delle imprese temerarie ardite anche nella stessa come si dice nella stessa sostentamento della dell'impresa perché comunque l'impresa costa nel senso bisogna avere dei viveri c'è l'isolamento c'è l'assedio quindi in qualche modo cerca di come si dice ruba velieri si appropia fa delle azioni delle azioni diciamo piratesche nel cercare di rimediare dei bastimenti con delle derrate alimentari quindi tutta un susseguirsi di azioni mordi e fuggi che in qualche modo accrescono la sua nomea di fegataccio ma anche di uomo risolutore di determinati problemi comunque questa questa esperienza sarà per lui un po' il biglietto da visita per quello che sarà poi lo squadrismo e lo squadrismo in Romagna sappiamo particolarmente acceso nella nelle sue forme sia urbane che quelle anche agrarie diciamo con tutte le problematiche legate alle ai mezzatri alle varie realtà del ai vari livelli dei lavoratori della terra e questa situazione si va un po' a cozzare con quella realtà più domestica che appunto soprattutto la madre che l'avrebbe voluto impiegato tant'è che gli trovarono pure con una raccomandazione un posto in banca ma che lui non voleva perché sostanzialmente egli non 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 capiva nulla della logica della matematica la logica di un lavoro impiegatizio cioè veramente potremmo definirlo l'anticheccozalone per 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 parlare esatto cioè tanto c'è da una parte il posto fisso lui dice no il posto fisso mi dà una chiodata nel senso che io devo andare a menare devo andare a a battermi devo andare a a sfidare la gente a a a a a fare vendette contro i nemici della della degli ideali miei eccetera e quindi questa sua irruenza lo portò a essere sostanzialmente un capo un leader nonostante la giovane età eh all'interno di delle varie formazioni del della formazioni del del movimento fascista eh in nel Ravennate e nelle zone eh vicine ehm si sposò nella intorno alla metà degli anni venti eh con una benestante del 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 luogo ma questo questo matrimonio fu particolarmente diciamo sfortunato perché lui appunto era era dedito a oltre al tradimento cioè saltava da da un letto a un altro sostanzialmente era amante del gioco e iniziò a contrarre molti debiti era amante delle belle macchine e qui sostanzialmente ebbe eh una capacità di dispensione di 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 diciamo di di molto dispensiosa delle proprie delle proprie finanze ma sempre vivendo eh al limite del sostentamento nel senso che egli comunque aveva una gran faccia tosta e quindi alla fine riusciva in qualche modo a essere coperto costantemente dalla dalla propria eh collocazione politica perché appunto contestualmente iniziò a percorrere la carriera nella milizia ebbe numerosi incarichi per esempio eh venne mandato a Trieste come comandante della milizia eh portuale e in questo venne anche aiutato da Costanzo Ciano che all'epoca era ministro della delle comunicazioni dei trasporti e quindi in qualche modo elemento portuale lo anche perché eh diciamo lo stesso Muti per la sua vita particolarmente irruenta aveva anche necessità continua di di persone che lo proteggessero che avessero in qualche modo lo supportassero anche per pagare questi debiti infatti molto spesso egli ebbe eh per esempio ehm ebbe eh Arpinati che lo aiutò spesso nel pagare considerate che una volta si trovava a Roma in un albergo era assediato dai creditori non poteva uscire dall'albergo eh perché eh c'erano fuori i creditori che gli volevano i soldi e lui l'unica soluzione che poteva trovare è iniziare a menare perché se no non aveva altre non avendo soldi avendo sempre uno sciupio eh vivendo sempre al di sopra delle proprie possibilità appunto tra donne macchine gioco d'azzardo eccetera era veramente un disastro sotto l'aspetto dell'economico diciamo quotidiano e questa sua irruenza si andò a declinare in due fatti molto curiosi molto simpatici Alana una volta eh incontrò sul treno ah no devo fare una premessa quando si trovava a Trieste stiamo parlando dei primi anni trenta ebbe modo di ehm fare amicizia con ehm il duca d'Aosta Amedeo eh che in quel periodo ehm transitò dalla dall'esercito all'aeronautica tant'è che poi sarebbe divenuto un generale dell'aeronautica e che eh diciamo eh influenzò lo stesso Muti nella passione per il volo tant'è che appunto nella ehm nell'aeroporto eh di ehm Ronchi dei legionari eh dove eh vi era il reparto comandato dal duca d'Aosta ehm Muti eh era un assiduo frequentatore e iniziò anche ad appassionarsi al volo eh prendendo anche i relativi brevetti eh di pilotaggio vabbè detto questo su un treno siamo nella metà degli anni trenta su un treno eh non so che lo portava non so dove ehm ebbe modo nello scompartimento di eh sentire eh alcuni ehm turisti inglesi diciamo che in qualche modo parlavano male dell'Italia parlavano male dell'aeronautica italiana non so per quale motivo intanto è che lui sentendo questa coppa tra l'altro non so con che lingua parlassero perché poi magari parlavano inglese erano tra di loro però lui aveva capito che stavano parlando male dell'aeronautica a certo punto li ha li ha li ha ammazzati cioè d'ansia a picchiarli duramente per salvare l'onore dell'Italia e quindi questa cosa diciamo eh aveva indotto Mussolini da parte chi era l'altra volta in un'altra puntata che si minò a un bar a Milano anche lui per difendere non mi ricordo lì era la starace era la starace sì difendere il buon nome dell'Italia però era nel periodo della neutralità nel Queen il 14-15 sì tutti i personaggi particolarmente curiosi e un altro fatto che si trovava sempre a Trieste e un emiro un emiro arabo ha fatto delle avance ha fatto delle avance aveva diciamo una tendenza sessuale che non era uguale a quella di Muti e quindi ha fatto delle avance e lui che si è sentito un po' toccato ha picchiato pure questo emiro intanto è che ha creato una specie di incidente diplomatico perché questo emiro appunto si era lamentato poi all'ambasciata su questa esperienza e Mussolini pure lì lo ha rimproverato per lo sgarbo diplomatico che ha fatto a questo questo alto funzionario straniero però allo stesso tempo cioè pure hai salvato il buon nome della del del macismo italico quindi diciamo in qualche modo sei perdonato per questa per questa cosa e diciamo la vita di Muti era contraddistinta da tutti questi eventi nel senso eventi legati a un gran fegataccia a un grande voglia di battersi che si si che culmineranno a partire proprio dalla guerra di Etiopia a una lunghissima carrellata di esperienze belliche ve la faccio corta tra la guerra di Etiopia la guerra di Spagna e poi la seconda guerra mondiale collezionerà un numero infinito di medaglie tra cui la proprio la medaglia d'oro al valore militare che meritò durante la guerra di Spagna quindi sostanzialmente egli venne definito tra l'altro il petto più bello d'Italia per la quantità di 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 medaglie di decorazione di al valore militare di tutte le le possibili gradazioni tant'è che pure lì un altro fatto una donna donna affascinata da lui chiese mi fa vedere il suo petto pieno di medaglie dice si glielo faccio vedere se lei mi fa vedere il suo nel senso che deve essere se lei mi fa vedere il suo perché se no è sbilanciata la cosa poi ebbe in Spagna un amante che gli avrebbe dato un figlio illegittimo con tutta una serie di poi anche un'altra figlia una serie di di cotte e di crude fegato e sregolatezza appunto capacità grande di cercare anche la bella morte paradossalmente e non trovarla nel senso riuscire a cercare la bella morte a fare delle azioni suicide in tutto e per tutto ma poi sottornava sempre poi dicono il patriarcato c'era l'equità anche all'epoca esatto 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 quindi sostanzialmente si trovò nel 1939 dopo la defenestrazione di Starace che era diventato ormai infido a tutti nessuno lo poteva più digerire era veramente insopportabile perché aveva avuto una segreteria lunghissima di sette anni veramente pure Mussolini non ne poteva più Ciano che stava tramando eccetera e quindi serviva un sostituto a Starace una persona fidata una persona autorevole una persona che in qualche modo però si facesse anche un po' manovrare soprattutto da Ciano che aveva interesse a gestire un po' la successione perché Ciano ovviamente stava sempre aspettando il suo turno per prendere il posto del suocero ebbene individuato proprio Muti infatti nacque la la barzelletta un po' il detto che per una volta Ettore aveva battuto Achille che in genere nell'Iliade era Achille che ha battuto Ettore invece qui era Muti Ettore Muti che aveva battuto Achille Starace quindi anche questa è un fatterello curioso e Starace è sempre in mezzo a tutte le battute tutti i giorni ma potevano risparmiarsi questa veniva su un piatto d'argento uno si chiamava Ettore l'altro Achille quindi era un attimo che il fatto che Muti fosse il successore di Starace ma in realtà se poteva diciamo in quel momento Muti rappresentare il meglio che il partito potesse avere in realtà fu una scelta forse la peggiore possibile immaginabile perché per vari motivi alla uno perché Muti non voleva fare il segretario del partito nel senso che lui stare dietro una scrivania a firmare carte Muti cioè che prendeva l'aereo che andava a buttarsi contro i nemici che menava eccetera ve lo immaginate uno così cioè un personaggio un segretario di un partito che è un che è un filibustiere cioè era impensabile tant'è che appunto lui non si sentiva in grado nelle competenze di presenziare ad attività doveva stare in divisa tutta lustra invece lui voleva stare con la tuta da volo sporco di grasso quindi non era non era al posto suo e allo stesso tempo anche Mussolini e lo stesso Ciano capirono che non era adatto cioè non aveva i modi non aveva l'eleganza per quel tipo di ruolo la diplomazia cioè amenato e l'emiro cioè quindi poteva essere adatto a fare ricevimenti ad accogliere personalità non era adatto quindi come finirà il nostro torro scatenato è sostanzialmente Muti poi chiese di essere esonerato da questo incarico poi di fatto l'Italia poi entrerà in guerra quindi diciamo lui entra nell'incarico alla fine del 39 dopo sei mesi l'Italia entra in guerra ha scappato io voglio tornare a combattere sostanzialmente quindi viene inizialmente diciamo messo in aspettativa chiamiamola così poi sostanzialmente venne mandato tornato al fronte nel frattempo lui era diventato ovviamente un ufficiale dell'aeronautica appunto seguendo anche ripeto le fortune di Ciano sia militari durante la guerra d'Etiopia e poi quella di Spagna eccetera ma anche sotto l'aspetto prettamente politico e quindi venne inviato a a Rodi siamo ancora nel periodo in cui c'era De Vecchi De Valcismon e nel Dodecaneso e proseguirà la sua attività a Rodi facendo anche qui delle imprese titaniche nel senso che farà una missione per bombardare il Bahrain un viaggio lunghissimo e poi andando atterrando in Eritrea quindi una cosa di migliaia e migliaia di chilometri in volo in volo continuo ha messo dei serbatoi aggiuntivi delle cose pirotecniche di prima grandezza e ovviamente aumentava di grado otteneva altre medaglie eccetera eccetera però c'era un problema che tutte queste avventure gli avevano comportato un problema alla vista derivante dagli scarichi dei del 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 carburante con appunto ovviamente risentiva di tutte queste ore di volo e quindi questo problema agli occhi fu un problema molto molto grande quindi tant'è che non poteva più a un certo punto non gli permette non gli permisero più di volare perché non poteva proprio non ci vedeva era proprio un problema grave molto grave e quindi sostanzialmente poi passò l'ultimo periodo nel 43 di fatto al ministero a Roma ma ovviamente capite bene che non era un luogo che lui apprezzava lui voleva essere in combattimento quindi riuscì a tornare in Spagna dove conobbe dove rivide l'ex amante che nel frattempo aveva avuto una bambina poi avrebbe avuto un altro un altro figlio e arriviamo all'estate del 43 l'estate del 43 è particolarmente controversa perché perché egli nonostante la propria sregolatezza e la propria fedeltà a Mussolini però maturò e questo ce lo racconta Grandi e secondo me al netto delle possibili riserve che possiamo avere nei confronti dei mori di Grandi secondo me Grandi non 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 mente nel riferirci questo è verosimile che egli accettasse condividesse in qualche modo l'idea di poter mettere da parte Mussolini perché sostanzialmente anche lo stesso Muti capisce che Mussolini è finito politicamente che non ha più nulla da dare e quindi è necessaria una un cambio di passo e a detta di Grandi Muti si sarebbe anche offerto siamo nel giugno del 1943 di uccidere Mussolini allora su questa ultima affermazione possiamo avere delle riserve però che egli fosse comunque solidale nei confronti della di una possibile messa da parte di Mussolini è credibile comunque passa il 25 luglio e e ci troviamo nel periodo dei 45 giorni batugliani nel periodo dei 45 giorni batugliani la situazione è molto controversa perché sicuramente Muti ha una sua come si dice ha una sua un ruolo cioè è sospettato di poter tramare qualcosa ha dei contatti con i tedeschi è molto amico dei tedeschi mantiene una forte amicizia con i tedeschi soprattutto con gli ufficiali i comandi della Luftwaffe in Italia ma probabilmente questi contatti sono anche dovuti al fatto che ha saputo che in Germania ci sono degli ottimi oculisti che possono operarlo agli occhi quindi probabilmente uno dei motivi per cui intrattiene questi rapporti con i tedeschi è anche perché ha sentito che potrebbe andare in Germania per essere operato e questa cosa per lui è molto importante vabbè è stato di fatto che Badoglio come si dice Badoglio lo sospetta entra in un vortice di sospetti incrociati e quindi arriva alla morte sostanzialmente che avviene il 24 agosto il 1943 nella sua casa di Freggene dove era insieme a un amante mezza spia ungherese o comunque della zona della Mittell'Europa in un conflitto a fuoco un conflitto a fuoco sostanzialmente unidirezionale in cui il manipolo dei carabinieri che lo sta prendendo in consegna per portarlo a Roma non è proprio un arresto è più un portarlo a Roma per accertamenti perché ci sono delle cose poco chiare che deve lui riferire alla polizia sta di fatto che si riferisce che sta scappando nel bosco qualcuno spara i carabinieri non si sa chi spara altra gente che non si sa chi è che lo vorrebbe liberare in realtà poi i carabinieri aprono il fuoco e lo ammazzano e quindi ci troviamo di fronte a una morte molto misteriosa dove i sospetti cadono sulla volontà di Badoglio di eliminare di mettere fuori gioco questo personaggio che in qualche modo può influenzare può minacciare la la realtà del governo Badoglio diciamo che secondo me in qualsiasi modo la si voglia vedere fu un grave orrore uccidere Muti perché come disse come dissero non so se lo disse un esponente del vicino a Badoglio non so se il capo della polizia Senise o qualcuno del suo entourage disse i fascisti hanno avuto il loro Matteotti tant'è che durante la Repubblica Sociale Italiana Muti aumentò ancora di più la sua memoria la sua autorevolezza tant'è che durante la Repubblica Sociale Italiana tu l'hai fatto vedere prima nacquero numerosi reparti dedicati a Muti e Muti viene considerato generalmente come il primo caduto della Repubblica Sociale Italiana anche se in realtà è caduto molto prima dell'istituzione della Repubblica Sociale Italiana però in qualche modo lo si vuole ergere a protomartire della Repubblica Sociale Italiana di quella fascismo che ha superato reagendo al cosiddetto tradimento del 25 luglio quindi diciamo che la sua morte ha sicuramente condizionato molto anche dell'esperienza militare della Repubblica Sociale Italiana passiamo a Serena Serena che fosse creata del partito come dicevo dalla fine del 40 alla fine del 41 poco più di un anno è un esponente di quel fascismo locale lui era abruzzese era nato all'Aquila anche lui una vita particolarmente agitata nella nella giovinezza finì gli studi in maniera abbastanza difficoltosa venne espulso ma io non so allora se si sarebbe venuto a verare sei non sono convinto nel senso non sono convinto non lo darei per certo da qualche parte comunque si sarebbe infilato perché lui insomma c'era da fare sì sì ma non non sono convinto che che si sarebbe unito alla Repubblica Sociale sai allora il discorso della Repubblica Sociale Italiana è sempre un terno all'otto dipende dove ti trovi dipende dove ti trovi pensiamo a a Graziani Graziani comunemente diciamo Graziani è la Repubblica Sociale Italiana la Repubblica Sociale Italiana è Graziani no? è un elemento inscindibile ma siamo veramente convinti che Graziani si sarebbe comunque schierato dalla parte della Repubblica Sociale secondo me no secondo me se Graziani non si fece di trovarsi a Filettino in provincia di Frosinone si fosse trovato in un'altra realtà avrebbe aderito al Regno del Sud quindi secondo me dove ti trovi la sera dell'otto settembre in qualche modo a condizione io sono d'accordo che c'è i granatieri che stavano a Roma e hanno combattuto i tedeschi è ovvio ma non sono convinto che le scelte siano ineluttabili che il destino ha voluto così e punta e base secondo me potevano esserci delle ipotesi in cui Graziani i muti potrebbero potuto fare un'altra uno normale c'era tra questi no poi dipende se cosa intendiamo per normali se per normali intendiamo moralmente ineccepibili onesti non servi del sistema no non ci stanno erano tutti quanti arrivisti tutti quanti in qualche modo fanatici in qualche modo esagitati era il periodo nel senso che non potevi diventare un ministro se non avevi determinate caratteristiche compiacenti nei confronti di Mussolini questo è per capirci cioè di tutti quelli che abbiamo dei 30 che stiamo esaminando in totale quelli secondo me decenti si contano su mezza mano potrei potrei non è detto che lo salvo potrei salvare Bottai che era forse il meno peggio potrei salvare Giuriati forse ma solo sti due gli altri forse che posso salvare Bastianini tre ne salvo tre su 30 e comunque hanno avuto incariche e responsabilità che che nessuno li toglie quindi diciamo che diciamo diciamo come si dice come dice il detto se per questi mari vai questi pesci trovi non è che puoi trovare altri pesci sono questi cioè per arrivare a quei livelli torniamo a Serena così acceleriamo un po' la situation Serena vive la sua esperienza prevalentemente in Abruzzo una realtà regionale un po' eccentrica rispetto ai grandi luoghi del fascismo pensiamo appunto alla Romagna all'Emilia alla Toscana però allo stesso tempo una regione particolarmente effervescente visto che ha dato i Natali oltre ad Annunzio per esempio ad Acerbo per esempio e quindi che succede? Che Serena inizia il suo percorso politico da reduce da esponente di una certa di una certa scusate di una certa beve un attimo di una certa borghesia urbana aquilana che però capisce come la realtà gli sta stretta e quindi entra all'interno di una come si dice di una di giochi di potere che lo porteranno a divenire l'esponente dopo Acerbo ovviamente però Acerbo a un certo punto esce dalla realtà regionale abruzzese per divenire un esponente di punta del fascismo centrale mentre Serena rimane per lungo tempo un esponente regionale sostanzialmente quindi diventa prima sindaco e poi potestà dell'Aquila esponente di punta del partito all'Aquila e in Abruzzo quindi con tutta una realtà che lo porta ad essere un po' il punto di riferimento del fascismo abruzzese e questo lo porta ad essere particolarmente intraprendente soprattutto negli anni venti e i primissimi anni trenta nella nello sviluppo edilizio nello sviluppo anche infrastrutturale della città dell'Aquila e del suo circondario intanto portò avanti non solo delle attività architettoniche classiche del fascismo l'architettura fascista le piazze le conformazioni urbanistiche ma anche tentò di rendere l'Aquila e il suo circondario come un centro di attrazione turistico ludica gli impianti scistici di campo imperatore la funivia tra l'altro se pensiamo che campo imperatore non è vicinissimo all'Aquila al senso ci saranno almeno venti chilometri ed è ancora comune dell'Aquila quindi praticamente lui fece una sorta di agglomerato il comune dell'Aquila è grandissimo a livello considerando ovviamente la regione abruzzese perché lui sostanzialmente abolì tutti i comuni intorno per accorparli all'Aquila perché fece questa cosa che tra l'altro sono una situazione che è rimasta anche invariata dopo tant'è che l'Aquila ha un problema questo lo si è visto anche nel periodo della ricostruzione dopo il terremoto del 2009 una realtà difficile sotto l'aspetto di insediamenti residenziali perché è molto frazionata e questo lui lo fece perché aveva il complesso come lo chiamo io il complesso dell'Aquilano io sono di origine abruzzese quindi conosco bene la realtà abruzzese e l'Aquila che è sempre stata il capoluogo culturalmente politicamente del capoluogo abruzzese sin dagli anni venti ha risentito fortemente della concorrenza di Pescara Pescara che è accelerata se consideriamo che Pescara tra gli anni venti e gli anni trenta è aumentata esponenzialmente sia negli abitanti che nelle attività imprenditoriali industriali eccetera quindi la necessità da parte dell'amministrazione comunale dell'Aquila e quindi Serena di contrapporre la città dell'Aquila a tutte le realtà restanti abruzzese in primo luogo contro Pescara e quindi ecco tutta questa frenesia e di frenesia stiamo parlando nel cercare di accrescere anche in maniera artificiale la realtà dell'Aquila vabbè comunque questa cosa che porterà Serena a essere particolarmente attivo verrà in qualche modo riverberata nella realtà nazionale perché? Perché appunto fa bella figura nel senso che si dimostra un un amministratore anche oculato diciamo seppur ovviamente con tutte le cautele del caso tant'è che venne chiamato come diciamo come vice di Starace Starace lo individuò come un ottimo possibile vice già vice di Starace non è che deponga molto nei confronti di Serena però diciamo che quello si trovò e quello fece e soprattutto Serena fu tra i gli l'esponente vicario che saluta Pescara ciao Di Cecco Pescara è un senso di niente è la prima città per importanza dell'Abruzzo non ci sta niente da fare per abitanti per attività eccetera quindi diciamo che a parte la ferrovia che da Roma a Pescara ci vogliono tre ore tra l'altro vorrei fare un pensiero permettetemi il mio personale che è morta adesso non mi ricordo come si chiama è morta un'attrice proprio ieri aspetta te lo dico come si chiama Carmen Comegna che era abruzzese era della provincia di Chiedi è morta cioè ha 43 anni è morta ieri stava sul treno Roma Pescara che è già un'impresa meritoria fare il treno Roma Pescara che c'erano tre ore da Roma a Milano ci metti tre ore è la stessa che fai per andare a Pescara che sono manco 200 km e si è sentita male sul treno perché il treno si era rotto ha preso freddo non ho capito immagino ci fossero qualche altra patologia perché se no non si spiega ha preso freddo con la febbre l'hanno ricoverata è morta quindi diciamo che un pensiero all'Abruzzo anche per la morte di Monica Carmen Comegna che non c'entra niente col discorso che facciamo però parliamo d'Abruzzo e parliamo anche della difficoltà infrastrutturale dell'Abruzzo che da Roma a Pescara ci vogliono tre ore con il treno aperta e chiusa questa parentesi off topic come si suol dire in questi casi e tornando a noi quindi Serena prende il ruolo vicario di Starace quando Starace è impegnato in in Africa Orientale impegnato in Africa Orientale è un efeimismo diciamo che non è che brillasse di capacità però era impegnato lì e quindi nessuno reggeva il partito a Roma e Serena quindi in qualche modo si fa vedere ha delle capacità anche attive diciamo sa fare il buon burocrate e come buon burocrate viene anche diciamo elogiato da dalle dalle autorità più importanti quindi pensiamo a Ciano a Mussolini tant'è che quando ci fu il rimpasto del nel 39 ci fu il cambiamento venne cacciato Starace il cosiddetto gabinetto Ciano Serena venne nominato ministro del delle infrastrutture che cos'era ministro delle dei lavori pubblici eccole scusate dei lavori pubblici si chiamava all'epoca dei lavori pubblici che fu comunque una promozione perché comunque ebbe un certo credito anche a livello proprio finanziario al senso che veniva considerato una persona onesta intellettualmente ma anche finanziariamente vabbè quindi che succede che questa sua attività di ascesa sociale e politica venne ancora più premiata quando alla fine del 41 quando venne rimandato muti a fare l'aviatore venne chiamato Serena però pure la serenità di Serena sostanzialmente questo lo vedremo anche nelle segreterie successive del partito durante la seconda guerra mondiale sostanzialmente era sfibrante perché il partito che aveva dopo il settennato di Starace con un ingolfamento di ruoli compiti con un accentramento come cinghia di trasmissione tra la società e lo Stato con la guerra questi elementi si andavano in cancrenire ancora di più mi spieghi la faida con Buffarini allora la faida con Buffarini Guidi è essenzialmente legata al fatto che Buffarini Guidi era come abbiamo detto anche a suo tempo era un grande intrallazzino che aveva come sottosegretario al ministero degli interni aveva il desiderio di occuparsi di tante cose e quindi di occuparsi di tante cose anche delle relazioni di Mussolini tant'è che Buffarini Guidi era confidente sia di Donna Rachele che di della Petacci era servo di due padroni e quindi che succede? Che Buffarini Guidi cercò in tutti i modi di di come si dice di ostruire la le competenze di serena come segretario del partito perché serena aveva la pretesa e secondo Buffarini Guidi era insostenibile di poter gestire anche il comparto socio-economico del paese in guerra perché riteneva serena che il supporto socio-economico del paese in guerra passasse anche attraverso il partito ovviamente cosa che Buffarini Guidi non voleva perché ovviamente voleva accentrare tutta la componente anche dell'ordine pubblico dei rapporti eh dei rapporti sociali eccetera e quindi questa lotta portò sostanzialmente alla fine politica di serena perché appunto sostanzialmente Buffarini Guidi era 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 talmente addentro perché faceva il sottosegretario agli interni da dieci anni quasi dieci anni quindi diciamo di cose ne sapeva e sapeva ben smaneggiare i propri i propri i propri i propri cordoni i propri fili della della situazione quindi sostanzialmente serena dopo un anno circa di 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 galleggiamento potremmo dire nella realtà del partito che era un partito rissoso un partito ehm afflitto da mille tribolazioni perché appunto il periodo bellico aveva ehm accresciuto le difficoltà del partito di una realtà assai complessa appunto poi con la la propaganda sempre peggiore perché comunque c'erano sempre sconfitte non è che ci fossero tutte queste elementi che rafforzassero il fronte interno quindi il partito era 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 difficile da gestire e quindi serena poi sostanzialmente venne venne quindi liquidato alla fine del eh del quarantuno eh e quindi sostanzialmente poi eh diciamo passò il periodo successivo eh alla alla seconda guerra guerra mondiale in maniera abbastanza defilata eh venne venne comunque eh prima processato ma poi riuscì in qualche modo a a ad essere graziato dalla 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 giustizia eh della Repubblica Italiana eh venne corteggiato dal Movimento Sociale Italiano per ruoli per incarichi lui era era iscritto al Movimento Sociale Italiano ma non ebbe mai eh grossi cioè non si fece mai ammaliare da possibili incarichi tant'è che appunto poi cioè morì nel millenovecentosettanta e una cosa curiosa nel millenovecentosettanta l'anno in cui vennero istituite le regioni ed egli che aveva sempre il pallino dell'Aquila come capoluogo di regione dell'Abruzzo tra l'altro un Abruzzo che già aveva perso anche il Molise quindi diciamo che questo Abruzzo un po' eh difficile anche da collocare amministrativamente parlando nel nel centro Italia con una realtà eclettica della sua composizione e non riuscì neanche a vedere il risultato della eh individuazione politica dell'Aquila come capoluogo della regione perché sostanzialmente fino al 370 non ci sono le regioni quindi diciamo erano province sì che facevano parte geograficamente della dell'Abruzzo ma l'Abruzzo non esisteva a livello politico eh nella realtà quindi diciamo non ebbe neanche questa soddisfazione soddisfazione postuma di ehm di di vedere ehm l'Aquila come capoluogo della della regione parliamo di Vidussoni Vidussoni eh personaggio particolarmente ehm contraddittorio passatemi il termine eh nacque nel 1914 eh in in a Fogliano Re di Puglia tra l'altro in una zona che all'epoca era ancora regno austro-ungarico per dire quindi è nato politicamente è nato nell'impero austro-ungarico e mh visse la sua eh la sua vita giovanile eh partecipando essendo un figlio del fascismo sostanzialmente perché lui è nel 14 nel 22 ha ha otto anni quindi diciamo che mh cresce non non conosce una realtà diversa dal fascismo cresce durante il fascismo cresce con i valori della ehm della guerra del della dell'orgoglio nazionale quindi tant'è che egli ehm studente universitario partecipa alle alla premilitare nella milizia quindi diciamo ha un suo senso di eh partecipazione di adesione alle al anche alle attività belliche del 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 paese quindi che succede che viene mandato eh volontario in prima in Etiopia e e poi in eh in Spagna ehm quindi eh in Spagna si copre di gloria ottenendo come fai vedere tu la medaglia d'oro al valore militare una medaglia d'oro al valore militare che gli comporta tra l'altro eh la menomazione a una mano e a una diciamo a una difficoltà a un occhio quindi diciamo che è sicuramente una eh situazione invalidante esatto c'ha una mano una mano ehm no questo però non è questo è quell'altro questo vabbè comunque c'ha una mano diciamo offesa come si suol dire e e quindi diciamo che diciamo ha sicuramente eh questo sì sia un moncherino la la una situazione eh particolarmente disagiata però non si abbatte nel senso che prosegue la sua notavo che assomiglia un po' a Matteo Renzi così buttata là un po' c'ha un delineamenti così non so se chi si può offendere qualcuno ho detto che non so se si offende eh chi ma no il mostro di Regnano come lo chiamiamo eh va bene comunque tornando a noi è giusto una somiglianza fisica e dicevo quindi quindi prosegue la sua carriera come ex combattente come mutilato di guerra e però in realtà c'ha c'ha poco più di vent'anni non è che è navigato cioè è un è un giovane possiamo chiamarlo ancora giovane e quindi che succede tra l'altro lui continua la 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 carriera anche universitaria continua a a frequentare i corsi universitari lui è all'università di Trieste dove eh diventa eh un importante esponente seppur locale della dei guff che sono i gruppi universitari fascisti e diventa tra l'altro anche segretario nazionale dei guff qui siamo leti già nel 40 nel 41 e quindi qui insieme a Ricci quello pelato è Ricci ehm ehm o non si può dire pelato non so che c'era il pulicamente corretto senza capelli quindi c'era una diatriba sul discorso della del termine pelato e viene in mente una battuta del maschetti ma la 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 usiamo in altra circostanza no no la usi la usi la uso no viene in mente a cosa amici me atto secondo quando c'è il maschetti alla fine che sta in carrozzella no dicono a me ma tu non è che sei sei paraplegico se sei non deambulante cioè come come i ciechi sono ciechi non sono non vedenti e gli impotenti non è che sono impotenti sono non trombanti capito quindi questo è senza capelli non è pelato eh detto questo ehm eh Serena eh scusate Vitussoni Vitussoni torniamo a cose più serie Vitussoni quindi prosegue nella sua attività di nella filiera del partito fino a quando sostanzialmente proseguendo nelle proprie attività viene pescato dal mazzo e all'età di 27 anni o giù di lì viene nominato segretario del partito cioè non ci crede neanche lui che lo hanno nominato segretario del partito nel senso che lo stesso Ciano quando nel suo diario scrive a proposito di Vitussoni dice sostanzialmente Vitussoni ma chi è? chi è Vitussoni? cioè non lo conosce nessuno cioè Mussolini si è inventato eh di nominare Vitussoni in qualche modo credendo che un personaggio giovane incorrotto eh potenzialmente con idee fresche un po' come era stato Muti però Muti era stato un fallimento quindi il fatto di aver scelto come segretario del partito due anni prima una medaglia del valore militare diciamo un giovane ha il massimo ruolo tecnico politico del regime era stata una scommessa persa che Mussolini ricompie allo stesso modo con Vitussoni Vitussoni quindi si trova all'interno di un vortice di consorterie come dice lo stesso Bottai nel suo diario Vitussoni è stato buttato in mezzo a delle puttane di cui non riesce a gestire la situazione perché ognuno tira l'acqua al suo mulino lui è ingenuo ma ingenuo nel senso positivo nel senso che non capisce la realtà del delle diatribe delle degli elementi di grande intrallazzo che esiste quindi sostanzialmente si trova in balia degli eventi e questa situazione appunto lo porterà a nella sostanzialmente a chiedere di essere esonerato pure lui perché non si sente in grado si sente sempre non riesce a fare un discorso non è capace a parlare in pubblico che ovviamente capisce che per un segretario del partito durante il fascismo non saper parlare in pubblico impappinarsi è una cosa che non si può sentire tant'è che viene preso in giro continuamente non è all'altezza di questa situazione e quindi dopo grandi difficoltà viene esonerato nel febbraio del 43 viene chiamata al suo posto scorsa di cui parleremo fra poco e prosegue la sua la sua la sua vita tra il pubblico e il privato tra l'altro si riesce pure a laureare nel frattempo si è sposato tanto saluta Stefano ciao carissimo ciao Stefano si si piano piano facciamo tutto ci sto lavorando non ti preoccupare e quindi dicevamo la la situazione è quella che è dopo passa il il 25 luglio l'8 settembre arriva la Repubblica Sociale e lui si trova a Verona in balia pure qui degli eventi in senso aderisce a Repubblica Sociale ma non ha incarichi particolari e la cosa che mi ha più eh eh stupito mi ha più anche un po' inquietato ma non inquietato per per arrabbiato di di stupore è che io ho avuto modo di leggere delle sue lettere eh degli anni successivi ancora negli anni settanta lui morirà nel 1982 tra l'altro in estrema neanche povertà perché non non era povero ma era con difficoltà oggettive dopo la seconda guerra mondiale il fatto che avesse un'invalidità che avesse perso la pensione perché lui risultando eh reduce della milizia della guerra di Spagna ha perso qualsiasi diritto perché dopo la Repubblica Italiana non riconosceva delle eh agevolazioni ehm ehm diciamo retributive passa come si dice ehm delle pensioni a coloro che avevano eh decorazioni militari della milizia durante la guerra di Spagna quindi si creò una 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 disparità nel senso che eh quelli che combattevano nell'esercito nella guerra di Spagna potevano mantenere qualcosa nella milizia invece no e quindi si trova sempre in difficoltà economica facendo dei lavori improbabili ovviamente era era menomato era era invalido quindi aveva difficoltà si metteva a fare un po' il contadino un po' l'assicuratore si era trasferito in 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 Sardegna eh negli anni sessanta e settanta sta di fatto che le comunicazioni che ho trovato io eh presso gli archivi prevedevano essenzialmente due 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 sue richieste allora la prima richiesta è quella di poter eh avere la patente cioè lui a un certo punto gli tolgono la patente perché dice ehm non gliela rinnovano più perché dice tu cioè non ti manca una mano non ci vedi a un occhio non puoi guidare e per lui era una disgrazia perché diceva io come guido da vent'anni così cioè praticamente da quando ho vent'anni sto menomato e ho sempre guidato non ho mai fatto incidenti perché me l'hanno tolta quindi cerca delle raccomandazioni presso il ministero eh dei trasporti per cercare di rinnovare la patente ma non gliela rinnovano dice io abito in campagna ho difficoltà a muovermi e non gliela danno e l'altra cosa che mi ha particolarmente sconvolto è che ehm il il gruppo medaglie d'oro al valore militare che è l'ente morale che valorizza accoglie tutti quanti i decorati di medaglie al valore militare tra cui anche eh Vitussoni gli scriveva eh spesso per invitarlo a delle cerimonie a Roma delle occasioni eh ricreative di eh commemorazione e lui rispondeva sempre che non ci voleva andare perché lui non riconosceva la Repubblica Italiana tant'è che gli hanno mandato un formulario con scritto eh nome cognome da compilare per l'aggiornamento perché lui poi era stato anche promosso eh in in congeto no? Lui era era sottotenente all'epoca poi era fino a tenente colonnello e quindi gli chiedevano gli aggiornamenti da poter scrivere nei loro registri e c'era una tra i vari campi da compilare c'era decorazioni ricevute dalla Repubblica Italiana e lui c'ha scritto per fortuna nessuna o grazie a o grazie a Dio nessuna qualcosa del genere nel senso che lui si orava ancora negli anni settanta e lui non aveva digerito il fatto che ci fosse la Repubblica Italiana per lui ancora doveva starci la o la Repubblica Sociale o la Monarchia e tant'è che appunto lui continua ha scritto pure al Presidente della Repubblica per eh per le pensioni cioè date le pensioni ai mafiosi agli assassini perché lui reputava i comunisti assassini no sono gente che ha ammazzato i miei compagni fascisti quindi dice mandatele a Montecitorio i comunisti che hanno ammazzato che hanno ammazzato il Duce quelli che hanno ammazzato che hanno trucidato il Duce capito scrive queste cose veramente e capisci come qua sto mia Renzi ditemi quello che vi pare qui è spiccicato a Renzi questo non voglio dire Renzi in camicia nera eh vabbè lasciamo per e dicevamo quindi è una cosa il giro è complesso esatto no la cosa che mi ha veramente turbato il fatto che appunto ormai ci aveva ci aveva più di 60 anni e lui ancora a 60 anni dopo 30 anni di Repubblica non avesse si trovava veramente era un disadattato un disadattato della realtà ed è una diciamo una cosa triste per una persona che a 20 anni eh esatto non faceva la fila allora bastava farlo capoposto esatto intanto perché ci credo che non c'era la fila te la controllavano anche la posta te la privano quindi no ma anche perché gli ebrei non stavano in fila quelli dei colori non stavano in fila quindi già avevi tolto un po' di gente che gli antifascisti non stavano in fila quindi già avevi tolto tanta gente che non i socialisti i sociali capito avevi ridotto a Livorno era sgomba la fila esatto 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 comunque detto no quindi è una vita appunto tanto Vitussoni è un personaggio sconosciuto non conosce nessuno non lo conosciamo anche Ciano quindi figurate un po' io credo di essere stato l'unico il primo a scrivere una biografia su Vitussoni anche su Wikipedia c'è c'è una pagina però c'è poca roba c'è veramente veramente poco e queste cose sono veramente curiose queste lettere che ho trovato queste corrispondenze ti fanno capire anche la realtà successiva al fascismo cioè questo che è stato segretario del partito fascista seppure in maniera così strana perché ripeto era un giovane era uno nato nel 14 non con non aveva diciamo era senza non era come senza scrupoli precedenti un po' come Onoda no? il giapponese che era rimasto nell'isola sì esatto 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 non si capacitava si sentiva vittima è vero perché comunque era una vittima delle circostanze il fatto che fosse un invalido e non gli riconoscevano i legittimi essendo un invalido i legittimi riconoscimenti che magari avevano riconosciuto a quelli che come lui avevano combattuto ma con l'esercito cioè quelli dell'esercito avevano diritto lui che era della milizia che ha combattuto nella stessa guerra per difendere Franco non aveva diritto perché la norma poi queste me la rubano vedrai nessuno ha mai fatto una sitcom o comunque una serie con i personaggi del fascismo ma in chiave comica cioè i vari storacci che si prendevano per il culo le battute solo i rapporti interni perché qui c'è un'infilata di mostri di fenomeni sarebbe interessante una ricostruzione storica anche in chiave un po' comica dei rapporti interni che avevano tra di loro guarda se questa cosa la dobbiamo fare io, te e Metal Mike cioè io, te e Metal Mike spaccheremo faremo proprio i botti i botti a colori sì però a me da me che facciamo fastarace sì sì sicuro sicuro che smadonna che bestemmia un giorno sia l'altro pure vabbè finiamo con Scorza dai Scorza ce lo leviamo con poco Scorza no a parte scherzi Scorza l'ultimo segretario del partito nazionale fascista calabrese di nascita ma trapiantato in Toscana dalle parti due specificamente a Lucca e diciamo nella realtà toscana che sappiamo particolarmente parcellizzata perché ogni ogni provincia o quasi ogni provincia aveva il suo RAS lui è arrivato a Lucca e ha trovato Lucca come possibile campo di battaglia per da noi si dice americani di Lucca eh americani di Lucca e che andava sempre in scontro con gli altri RAS locali pensiamo Ricci che stava a Carrara quindi diciamo Lucca Carrara so vicine e in qualche modo eh vi è una grossa eh una grossa un grosso antagonismo un antagonismo che si va a costellare per tutti gli anni trenta eh scusate per tutti gli anni venti eh attraverso una necessità di ehm consolidare i propri eh il proprio feudo anche perché appunto le due province si toccano e le due province in qualche modo le squadre sconfinano da da un comune all'altro da una provincia all'altra e quindi vi sono continui continui recriminazioni continui eh necessità di diari di pertinenza esatto necessità di farsi vedere c'è tanto di quel materiale non per fare una roba comica senza neanche dover fare una cosa goliardica alla fascisti su Marte no 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 usare le loro interazioni naturali già basta allora io adesso faccio un'altra pubblicità a me stesso domani alle dieci e mezza sul mio canale faccio una diretta la seconda puntata di Duce e Ducetti eh l'Italia comica durante il fascismo leggendo le frasi commenti eh espressi da Mussolini e dai suoi uno si fa si scompiscia delle risate in cui veramente ma sono cose vere capisci non è di inventare erano comici grotteschi loro stessi per quel che dicevano che dicevano tutto e il controllo di tutto un po' tipo Berlusconi in senso che vabbè che si com'è che mi dissocio da me stesso esatto 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 che dice Berlusconi dice la mattina una cosa e il pomeriggio un'altra cosa l'opposta e la sera smentisce di aver detto fatto dichiarazione comunque detto questo parliamo di Scorza così se no la facciamo domani dicevo quindi Scorza vive e cresce politicamente all'interno di questa realtà particolarmente composita anche lui aveva già partecipato alla guerra quindi come lo vediamo anche nella foto ehm negli arditi quindi diciamo un fegataccio anche per certi aspetti quindi diciamo una persona eh diciamo non 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 è non è sbagliato nel senso che effettivamente la già i toscani sono litigiosi di loro figurati poi ma se ci amiamo tantissimo i venesi adorano i pisani i pisani adorano i lucchesi i sinesi adorano i aretini adorano i fiorentini ti sta crescendo il naso che tra l'altro Pinocchio è da quelle parti quindi diciamo che i collodi esatto quindi siamo sempre là tornando a noi quindi diciamo che anche Scorza entra all'interno di questa furibonda di Atriba questa furibonda scontro diciamo regionale provincialistico e anche con episodi particolarmente segnanti particolarmente imbarazzanti soprattutto per il proseguo della sua carriera in uno specifico sono due gli episodi eclatanti i fatti di Valdottavo che sono degli un 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 episodio in cui siamo nel nel 21 c'è un incidente stradale di un gruppo di socialisti che precipita da una scarpata diciamo sì precipita da una scarpata antifascista in generale che precipita da una scarpata creando ovviamente dei morti e diciamo le motivazioni adotte a questo incidente sono che erano stati oggetto di di angherie di 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 un assalto da parte di una squadra di di camicie nere capeggiata dallo stesso scorsa diciamo che ci sono delle indagini delle situazioni che in qualche modo cercano di chiarire meglio la situazione però diciamo che la le responsabilità di scorsa emergono come importanti tant'è che appunto se non ha degli effetti penali nell'immediato sono degli strasci che come al solito nel fascismo sappiamo bene che sono quelle cose che fanno mucchio e che possono tornare buone all'occorrenza per i tuoi nemici e il secondo episodio è quello di Giovanni Amendola Giovanni Amendola che muore dopo un attentato dopo un 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 un'aggressione che gli viene eh inferta proprio nella zona della 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 lucchesia e e le responsabilità che portano alla morte successiva di Amendola dovuta a questa aggressione portano in qualche modo a delle responsabilità ehm delle responsabilità in qualche modo legate al fatto che che scorsa aveva creato un eh una campagna d'odio nei confronti eh dello stesso Amendola quindi in qualche modo scorza se eh si avvantaggia negli anni per un suo spirito eh temerario uno spirito eh di fegataccio di organizzatore di rass provinciale dall'altro ha degli episodi che in qualche modo possono essere d'inciampo delle bucce di banana per la sua professione eh della carriera eh politica e quindi che succede che eh entra eh in alcune grazie diciamo ha soprattutto nella eh nella figura di giuriati un protettore quindi all'interno anche di farlo eh progredire eh non solo a livello locale ma anche nella possibilità di emergere eh nella sua carriera successiva tant'è che appunto sotto la breve eh segreteria di giuriati egli viene eh nominato eh come responsabile del delle delle formazioni giovanili del partito cosa che va in contrasto con il solito Ricci abbiamo detto che con Ricci eh solo il diavolo e l'acqua santa non so definire bene chi sia l'acqua e chi sia il diavolo e chi sia l'acqua santa però diciamo che in questo senso proseguono questi eh questi elementi di frizione proprio perché entriamo sempre nella difficoltà oggettiva di definire bene le competenze di uno e dell'altro entrano sempre nelle nelle rispettive competenze che siano territoriali che siano per materie che siano di competenze più politiche ebbene quindi si crea un attrito ulteriore dove appunto emergono i vecchi fatti le vecchie bucce di banana come ho detto dell'esperienza pregressa eh di di scorsa e quindi sostanzialmente scorsa tra il trentadue e il trentatré con l'avvento di Starace alla segreteria del partito sostanzialmente scorsa viene viene marginalizzato dalla i ruoli apicali del del partito e quindi cerca e trova un riscatto nella sua partecipazione bellica quindi partecipa sia alla guerra di Etiopia e poi alla guerra di Spagna nelle file della milizia quindi diciamo che un elemento costante del di molti di questi esponenti soprattutto di quelli più politici legati al partito quelli che poi dopo magari verranno indicati bravissimo diciamo che il partito e la milizia sono due due ambienti a porte girevoli se ti va male una cosa riesce a riciclarti nell'altra e viceversa e quindi sostanzialmente scorsa riesce a riottenere un certo credito politico facendo il valoroso in battaglia e quindi la sua esperienza nella sia appunto ripeto in 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 Etiopia e poi in Spagna lo porta sia un un progressione di carriera all'interno della girarchia della milizia ma anche una nuova un nuovo credito da poter spendere politicamente quindi ritorna sostanzialmente con delle degli incarichi entra nella nuova camera dei fasci delle corporazioni ha degli incarichi più tecnici fino a venire indicato prima come vice segretario del partito quando era Vidussoni e sappiamo come Vidussoni avesse bisogno di stampelle perché Vidussoni abbiamo capito che non era capace a far segretario del partito quindi aveva bisogno di elementi navigati tecnici che in qualche modo lo supportassero e tra questi navigati tecnici che in qualche modo lo supportassero c'era anche Scorsa e tant'è che poi Scorsa quando Vidussoni venne esonerato all'incarico del segretario del partito venne nominato al suo posto come segretario una segreteria molto breve l'ultima che abbiamo detto che durò pochi mesi una realtà del partito particolarmente afflitta da tutte le incongruenze del regime in guerra con siamo ormai nel 43 non ci sono più vittorie stiamo arretrando su tutti i fronti si è persa anche l'Africa settentrionale quindi diciamo gli americani stanno gli angloamericani stanno per sbarcare in Sicilia loro non lo sanno però diciamo che la realtà è quella che è e quindi sostanzialmente Mussolini gioca l'ultima carta disperata punta su Scorza sperando che Scorza possa in qualche modo ravvivare cercare di dare un viatico ma un viatico che onestamente non sappiamo ma magari non lo sappiamo neanche Mussolini veramente gioca l'ultima carta giusto per giocarla e Scorza nonostante sappia si renda conto che è una operazione disperata ci prova ci mette tutte le le proprie competenze le proprie abilità nel poter cercare di mediare ma la situazione come sappiamo è irreparabile e si va a consumare con la seduta del 25 luglio come abbiamo già detto nelle altre biografie la cosa a proposito della seduta lui è il primo che informa Mussolini e vota anche contrario sì tra l'altro sì però il discorso di Scorza è più più complicato nel senso che Scorza nasce un gioco delle parti mi spiego egli già percepisce la l'incapacità del regime quindi Mussolini di sopravvivere a quella situazione qualche giorno prima quando una settimana prima della seduta del Gran Consiglio perché lui vorrebbe organizzare i primi di luglio delle conferenze in cui i maggiorenti del governo e del partito possano fare sostanzialmente proselitismo nelle principali nei capoluoghi di regione del paese e quindi chiama i vari esponenti a Roma per dire allora dovete fare questo questo e questo in realtà questi che vengono convocati o non ci vanno tipo grandi grandi non ho da fare non vengo oppure quelli che si presentano tra cui De Bono eccetera sostanzialmente fanno presente che è una operazione inutile che loro non si vogliono prestare a questa buffonata perché dice ci mandi a parlare di cose mentre praticamente stiamo perdendo la guerra è una cosa inutile e quindi questa sorta di pronunciamento come poi definirà lo stesso Mussolini sostanzialmente è l'anticamera del 25 luglio e quindi lui è pienamente consapevole in quel momento che la situazione è critica e ne informa Mussolini e nei giorni seguenti quando grandi si presenta e gli porta l'ordine del giorno perché si pensa sempre che l'ordine del giorno sia una cosa estemporanea che è nata il 24 luglio in realtà è un testo che non è solo di grandi in realtà è stato elaborato da a sei mani ci ha messo le mani Bottai ci ha messo le mani anche altre quindi il documento che poi verrà espresso come ordine del giorno grandi sarà la elaborazione di un documento costituito nei giorni precedenti di cui Mussolini e quindi anche Scorza perché Scorza che gliel'ha portato sapeva i contenuti tant'è che Mussolini chiede a Scorza di preparare un documento alternativo un documento alternativo che in qualche modo sia salomonico e cerchi di rendere l'uscita di Scena di Mussolini più sopportabile anche allo stesso Mussolini quindi cercare di trovare una soluzione ovviamente la crisi è irreparabile ma cercare di mantenere Mussolini la barra di comando all'interno di questo uscita cioè non siete voi che mi imponete di uscire ma sono io che liberamente cedo il passo e delego qualcosa rispetto a quello che mi vorreste sottrarre e quindi ecco come Scorza sostanzialmente si fa promotore a nome del partito visto che ne è il segretario di una mozione a nome del partito poi in realtà ci si mette pure in mezzo Farinacci che ne propone una terza ancora più esasperata quindi si arriva alla discussione del 24 24 e 25 luglio con tre documenti che io ho fatto anche un video sulla lettura di questi tre documenti che se nella forma nella forma lessicale in realtà non sono molto diversi in realtà se tu li vai a leggere a parte qualche elemento non è che dicono cose totalmente diverse dicono sostanzialmente che Mussolini deve distribuire meglio gli incarichi come direbbe Alberto Sordi quando uscì il soldato tedesco no? che sorprese gli italiani si voleva arrendere te ne devi danna esatto e gli tira pure il sasso esatto e che poi è bello che il tedesco poi dice italiani belli alleati quindi diciamo è una frase iconica molto particolare quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte a questi tre documenti che vengono letti secondo l'ordine di presentazione quindi il primo e unico che poi sostanzialmente viene eletto è proprio quello di grandi perché è il primo che è stato presentato visto che quello di grandi ottiene la maggioranza dei voti gli altri due non vengono sostanzialmente neanche eletti perché appunto sono superati hanno approvato il primo quindi non è che uno vota per due emozioni tranne quelli che si oppongono o Farinacci che dice io voto per la mia quindi già anticipa che lui voterà per la sua anche se non l'ha stata ancora letta capite bene e Scorza insieme a pochi altri votano contro quella grandi capite bene che la situazione è già compromessa ma Mussolini ne è consapevole fa un po' una pantomima butta Scorza come capro espiatorio come diciamo parafulmine per le invettive ma lui è consapevolissimo che la realtà non si sblocca tant'è che lui prende alla lettera il contenuto della della dell'ordine del giorno grandi convinto che si si possa presentare il giorno dopo da Mussolini guarda la realtà è questa però non ti preoccupare perché ci penso io in qualche modo troviamo un accomodamento poi il re già ha capito tutto e già ha trovato la successione con Badoglio quindi diciamo è un gioco di incastri dove ciascuno si crede più furbo degli altri ha una idea di come superare la nottata e in questo caso Scorza si trova a essere buttato allo sbaraglio dello stesso Mussolini che cerca di utilizzarlo il problema è che lo utilizza male e Scorza poi alla fine anche lui è vittima delle circostanze come nel caso di di Galbiati non riesce a capire la realtà della situazione e quindi di fronte alla l'attesa di un ordine di Mussolini che non ci sarà perché Mussolini viene arrestato il 25 luglio si trova in balia degli eventi e quindi si trova talmente in balia degli eventi che poi alla fine si trova nella impossibilità di di accettare qualcosa di diverso da offrire la propria eventuale disponibilità a Badoglio per proseguire perché poi è lo stesso Musso pure Mussolini offre la propria disponibilità a Badoglio questo è il paradosso cioè quando Badoglio diventa capo del governo Mussolini si per carità è arrestato ma potrebbe anche rifiutarsi invece no manda una lettera a Badoglio dicendo io rimanga a vostra disposizione per qualsiasi cosa perché è convinto comunque che possa esserci una via d'uscita è la stessa cosa scorsa solo che Mussolini poi viene liberato cosiddetto dai tedeschi e quindi ha una sua vita propria mentre scorsa per non avere adeguatamente reagito alla caduta del fascismo viene invece incriminato e in qualche modo segue una un processo parallelo a Parma di quello che invece viene svolto nei confronti dei traditori quindi i vari De Bono Ciano eccetera che vengono invece poi condannati e fucilati e invece sostanzialmente poi scorsa viene semplicemente condannato a una a una pena a una pena detentiva alla fine la guerra finisce scorza in qualche modo dovrebbe essere perseguito pure dalla giustizia repubblicana per eventuali colpe responsabilità anche quelle degli anni venti no? quella mendola eccetera 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 solo che in qualche modo riesce a a dileguarsi e fugge in Sud America in Sud America attende sostanzialmente poi il corso delle delle amministrie delle revisioni dei processi eccetera eccetera quindi poi viene rimpatriato cioè rimpatria in Italia dopo qualche anni sessanta e sostanzialmente poi vive abbastanza defilato dalle diatribe successive alla alla fine della della guerra quindi diciamo poi muore negli anni ottanta in Italia diciamo da libero da libero cittadino scrive pure lui numerose opere come stai facendo vedere una serie di opere più o meno più o meno diciamo plausibili più o meno affidabili sulla ricostruzione del delle sue vicende politiche in particolar modo sulla notte del Gran Consiglio però diciamo anche lui diciamo pecca un po' di autocelebrazione soprattutto per difendersi dalle accuse che gli sono state rivolte nei mesi successivi a proposito di una sua passività di una sua incapacità di di saper difendere il Duce e Mussolini lui che è stato il segretario del partito poi si imputa a lui il fatto di non aver fatto niente di non aver reagito di non aver spronato i fascisti puri e duri qualora ci fossero stati nel nel reagire all'arresto di Mussolini questo è quanto questo l'ha mai capito tipi tipi guarda questo libro non l'ho non l'ho letto non sono riuscito a trovarlo quindi aspetta vediamo se avevo scritto qualche cosa aspetta in questo momento mi cogli impreparato vediamo se troviamo aspetta di che no non c'è scritto di che no è un grafomane un grande scrittore che le cose che scriveste fossero fossero come si dice plausibili e no non lo trovo vabbè vabbè comunque all'interno di questa sua variegata e prolifica attività editorialistica diciamo abbastanza eterogenea va bene mio caro allora diremo che siamo due ore quasi cinquanta quindi li abbiamo fatti tutti siamo alla fine del del tuo libro questo era proprio l'ultimo fra l'altro ricordiamo che li hai divisi in questa maniera qui e chi non compra il libro peste lo colga come diceva un noto attore italiano questa è la divisione insomma dei vari personaggi che siamo arrivati alla fine con quattro video su questo poi ragioneremo se faremo la puntata su fiume su dannosi eccetera secondo me è un bel tema io sentirò ovviamente Cimmino per il resto io vi rimando non so se riesco a fare una live di aggiornamento domani o lunedì perché poi domenica si parlerà di altre cose con un nuovo ospite che ancora non conoscete quindi Hype lo lascio lì io sono da Ivan Grieco domenica alle 13 quindi alla peggio faccio la live di aggiornamento lunedì vi ricordo che martedì c'è Barbero nel primo pomeriggio perché era l'unico orario utile e poi fra qui e il 20 di febbraio tornerà Stirpe torneranno insomma altri ospiti io il se non sbaglio il 17 il 18 sono a fare una conferenza cioè una conferenza sono ospite di Enricito Ferra e Cogito Studios mentre il 19 20 sono a Milano quindi mi beckerò con Gio Pizzi con Aldo Giannulli e sarò da Gio Pop e poi quando torno insomma si faranno altre altre belle cosette il 12 verrà il professor Bognardi che mi aveva invitato al Politecnico di Milano per la conferenza e di lui parleremo di periodo napoleonico anche su cose abbastanza specifiche moschetti combattimento in linea e cose del genere quindi piatto ricco micifico grazie a Giovanni soprattutto grazie a voi due ore e cinquanta di di mitragliamento e alla prossima signore febbraio sarà un mese mese pesante alla grana alla grana ciao grazie ciao ciao a tutti